Ciao ragazzi, benvenuti in diretta a Let's Show dei poveri, non per la caratura degli ospiti, perché era l'ennesima copia di Let's Show, quindi Dei poveri è inteso con me. Ciao Federico, ciao, tutto a posto? Ciao a tutti, ciao a tutti. Mike Shoshah, giusto? Si pronuncia così? Shoshah, Shoshah, sì sì. È la cosa più difficile di tutta la serata, sarà il nome. A parte noi ci conosciamo già da... Esatto. Benvenuto, allora, benvenuto, grazie per aver raccolto l'invito. Con Federico ci siamo conosciuti, se non sbaglio, al press tour di Uncharted 4, fisicamente diciamo, ci siamo visti la prima volta, o già prima? Vabbè, io ti conoscevo già per il lavoro che svolgevi. Sono un vecchio Matusa, certo, quelli. No, no, ma guarda, io... Vabbè, queste sono cose che... Però io in realtà, molto prima di iniziare a fare questo lavoro e tutto il resto, io la mattina, come quelli che fanno la rassegna stampa, no? Sì, sì, esatto. Quindi avranno il giornale, leggono, io tutte le mattine mi alzavo, eh, leggevo tutti i siti, quindi io conosco in realtà tutto, tutti, chi scrive, tutte le penne conosco. Quindi, insomma, ti conoscevo già, però non mi ricordo, sinceramente, la prima volta. Forse ci siamo incrociati da qualche parte, mi ricordo bene che abbiamo passato un po' più di tempo insieme al press tour di Uncharted 4, a Roma, anzi, fuori Roma, il castello, tutto molto figo, sì sì, con le attività fisiche e tutte. Quindi siamo usciuti lì e... e niente, quindi, eh, alla fine, in realtà, già lì abbiamo cominciato a parlare anche extra videogiochi, extra i personaggi online, no? Extra lavoro, anche per conoscersi un po' meglio. E quindi ho detto, in questo Let's Show, eh, sei il primo youtuber, tra virgolette, poi andiamo a dare la definizione se è giusta, se ti fa piacere essere chiamato youtuber o no, che invito nel Let's Show, che è partito in realtà da poco, però mi fa piacere perché, appunto, mi piacerà anche parlare di questi due mondi che sono differenti, ma in realtà fino a un certo punto, secondo me, nel 2018, perché c'è bisogno di un lato o dell'altro, sia per chi fa soltanto informazione classica, sia per chi invece sta davanti a una telecamera, costantemente è anche bello poter scrivere e viceversa, no? Sì, no, infatti, ecco, io colgo l'occasione, innanzitutto, per ringraziarti dell'invito, ma è anche un piacere per me fare questo tipo di interventi, tra virgolette, perché, come ti dicevo prima che iniziassimo questa cosa, immagino che oggi chi ci sta seguendo, insomma, magari qualcuno mi segue, qualcuno non mi conosce. Esatto, c'è un mix, ci sono un mix di persone in chat, tra quelli che conoscono, tra virgolette che so che conoscono anche me, e quelli che sono di per te, infatti sei iscritto al canale, uno che si chiama Vengo da YouTube, fantastico. Un trollerino, no, però, a parte gli scherzi, cioè, magari tanti, insomma, vengono dal tuo mondo, no? Conoscono più il mondo del sito, piuttosto dell'informazione videoludica, e magari o non sanno, oppure sanno un qualcosina, oppure immagino quello che è il mondo, appunto, di YouTube, dello YouTuber in questo caso. Scusa che leggo la chat, perché io non ti vedo, e vabbè, un po' casino. Però, insomma, magari hanno delle idee che magari non riscontrano poi la verità, no? Perché la cosa più base è lo YouTuber che non fa niente, è ricchissimo. Esatto, dalla mattina alla sera, braccia rubate dall'agricoltura, tutto questo. Esatto, esatto, esatto. No, vabbè, ma guarda, in alcune case è anche così. Ci sta. Qui, ragazzi, oggi, perché, a parte gli scherzi, insomma, mi piacerebbe anche farvi conoscere alcune sfumature magari ignorate, che comunque è interessante, sempre interessante conoscere tutte le campane, no? Quindi, spero che non ci siano domande troppo imbarazzanti. No, no, io ne ho qualcuna simpatica, no, imbarazzante non credo a questo. Io l'ho un po' studiato, ovviamente, prima della live, giusto per essere, però già ti conoscevo in realtà. Perché poi il mio punto di vista su YouTube è quello, alla fine. YouTube è fatto da tante sfaccettature, che poi YouTube è innanzitutto un mezzo. Non è che lo YouTuber è legato a YouTube in quanto rappresentante di YouTube, semplicemente è il mezzo che utilizza, non so se concordi, no? Per veicolare il suo messaggio, per lavorare. Quindi quando ti chiamano YouTuber, tu come ti definisci, invece? Allora, io vedevo... Ho seguito anche gli interventi che ha fatto lì a Napoli con Sabaku, con Player Inside. Cioè, io so che comunque qualche mio collega si offende, tra virgolette, se viene chiamato YouTuber. A me sinceramente non importa, cioè non mi dà né fastidio, né... Cioè, io stesso non so darmi una... Cioè, YouTuber è l'etichetta, chiaro? Fai video su YouTube, quindi automaticamente sei YouTuber. Però in realtà, cioè... Vabbè, allora aspetta un secondo, perché... Vabbè, tranquilli, abbiamo un sacco di tempo, è easy. Se io entro in questa cosa, io ho riscontrato nel... Ah, dopo ti fanno i video di reaction, no? Giusto che dicono, ha detto questo... Sì, sì, no, fanno i... ricaricano la cosa dicendo cose. No, però aspettate un attimo, perché io per esperienza ho capito una cosa, che se il lavoro dello YouTuber tu ne parli effettivamente com'è, magari susciti un sentimento che è molto vicino al... Ah, guarda come se la tira, no? Cioè, se tu racconti effettivamente com'è... Certo. E tu lo esalti e te la tiri, perché... Ah, sta a fare grosso. Al caso contrario, invece, se tu lo sminuisci e dici... Sì, vabbè, faccio questo, ma tranquillo. D'altra parte, sembra che comunque, sminuendolo, te la tiri. Quindi, insomma, non c'è la cosa giusta per spiegarlo. Io ve lo racconto e basta. Comunque, dicevo, in realtà io... Sì, faccio video su YouTube, però ho fatto tante altre cose, insomma. Cioè, per esempio, grazie a YouTube, sono coproprietario di un marchio di abbigliamento, ho una mia azienda. Insomma, c'è stato un sacco di cose. Fai tante cose, esatto, dietro. Sì, esatto, quindi c'è un po'... Sì, vabbè, diciamo, per me comunque, lo dico io al posto tuo, YouTube è un mezzo. Perché se stavi su Facebook, magari non ti chiamano i Facebooker che faceva schifo come termine, però tendenzialmente è il mezzo migliore per veicolare il tuo tipo di contenuto e anche ha avuto una bella scesa. Tu quando hai cominciato su YouTube? Allora, io ho iniziato... Allora, a fine... Tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Però diciamo che ho iniziato veramente a farlo, sì, nel 2013 inoltrato, perché... Che è stato poi un po' la bolla, cioè, iniziale di YouTube, giusto, 2013. Ho visto tante persone, come dire, cominciare a creare contenuti quell'anno, o dico una cavolata. Eh, no, allora, io mi ritengo fortunato. Vabbè, a parte per tutto, perché comunque, ragazzi... Siamo sempre fortunati. Sì, sì, no, ma, cioè, assolutamente. Bravi e fortunati. Anche bravi, però anche fortunati. Sì, sì, vabbè, poi la costanza, l'impegno, le idee, perché poi alla fine è l'idea. Però quella, vabbè, è chiaro, cioè, uno ce la mette senza comunque tutte queste cose, tu non arrivi qui. Però io mi definisco, insomma, in questo modo. Cioè, io ho iniziato il giorno prima che esplodesse la bomba. Cioè, nel senso, purtroppo YouTube oggi è molto inflazionato, canali su canali. È difficile emergere proprio per questo, perché comunque, come te, lo stesso contenuto, o comunque la stessa categoria, è pregna di tanti altri YouTubers. Mentre è chiaro che se iniziavi tre, quattro anni fa, c'era una startup libera. C'era più, esatto. Esatto, tanti YouTubers, magari che adesso hanno, che ne so, 700.000 iscritti, 500.000 iscritti, che però magari fanno meno numeri di, magari, canali nati due anni fa. Questo perché? Perché portano ancora la visibilità, o comunque la fama che gli ha dato l'inizio, no? Sì. Senza nomi, cioè... Sì, 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 vabbè, come se... Poi ce ne sono tanti, non solo di videogiochi. Sì, sì, no. Sì, sì, no, ma ho fatto un esempio così. Blah, cioè, non era... Magari ho detto 700.000, ma non so chi... Esatto, ma in chat comincerò a fare i calcoli. Quello c'ha 700.000... Era completamente a caso. No, questo per dire che... Insomma, mi ritengo fortunato, perché ho iniziato in un momento in cui... Diciamo che se ci fossero generazioni... Io non sono la prima generazione youtuber, ma sono la seconda generazione. Ok, ok. Di giri incredibili, per dire una cosa... Infatti, esatto. Che facevi prima? Cioè, tu eri giocatore classico... Tu sei di Roma, giusto? Allora, io sì, sì. Vabbè, io abito in provincia di Roma. Abito in provincia di Roma. Che è un po' più complessa la città, però... No, sì, sì, assolutamente. No, no. Non ci vorrei mai... Senti, giocatore classico, nel senso che giocavi, che facevi, che... Allora, io sono un classico giocatore super appassionato, ma single player. Ok. Quindi io praticamente tutto quello che faccio e che ho fatto comunque su YouTube l'avrei fatto indipendentemente... Leggo la chat. Esatto. Vedete in chat i tuoi fan che ci sono... Sono arrivati in bel pod. No, sì, sì. Hanno già fatto riferimenti a alcuni canali, vedo. No, 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 no. Leggio poi altre cose, tipo ho letto che c'ho la camicia ma sta in mutande, cose un po'. Vabbè, classiche cose. Anche io qua. Sì, sì. Disturbanti che tu vai, leggi la chat per cercare qualcosa di interessante. Ah, dopo sì. Vai. Dicevi, quindi... Single player, soprattutto. Tutto quello che ho fatto l'avrei fatto indipendentemente. Tutto quello che faccio, a parte ovviamente video intrattenimento, lo avrei fatto indipendentemente. Ah beh, aspetta, lo farei comunque, però legato al videogioco è questo. Cioè io ho sempre giocato e portato quello che avrei giocato indipendentemente. Sì, sono sempre stato appassionato di questo mondo. Corrompevo i commessi del Media World e GameStop. Per rompere il Day One. Quindi sei il classico cacacazzo che rompe il Day One. Sì, aspetta. Allora, posso raccontare questa cosa? Vai, vai. Adesso mi è venuto un epifano incredibile. Però guarda, io ho pure subito una cosa che se mi dovesse succedere oggi penso che darei fuoco a tutto. Allora, Day One di Dead Red Redemption. Ok. Ok, quindi c'è una cosa che io non è che aspettavo. ero proprio accampato lì, c'erano andate già da due giorni e tutto. Allora mi diceva, no, torna il giorno del Day One. Allora, vado il giorno del Day One e questi qui avevano fatto un casino con, insomma, gli ordini e praticamente io ho preso poi il gioco tre o quattro giorni dopo. Ok, dell'uscita ufficiale. Vabbè, questa è una triste storia. La triste storia di un giocatore single player che rompe il Day One, però quella volta invece quattro giorni dopo. E quindi poi ti sei messo lì a fare video, anche a bella parlantina si vede, poi chiaramente adesso ormai sei professionista della parlantina, poi col tempo. Ci sono video tuoi di cui sei un pochino, come hai vergogna o comunque ti riguardi e dici cazzo, avevo un'edizione completamente differente oppure ero molto più impacciato in camera, sì, suppongo. Beh, allora, vergogna, vergogna, no, perché più che altro ne ho fatti talmente di tanti che probabilmente quelli più vergognosi non me li ricordo, però diciamo che nessuno sa qual è la giusta via, no? Per arrivare, insomma, cioè io sono arrivato qui ma io non so come, cioè nel senso, cioè non c'è una cosa, un modo giusto di fare le cose. Cioè che puoi anche replicare oggi, nel senso, se volessi dare un consiglio è difficile. Beh, no, sì, beh, no, sì, oggi... La costanza, innanzitutto. Sì, vabbè, al di là della costanza, però, per esempio, quando ho iniziato io tante cose posso dire, no, nonostante nessuno inventa niente su internet, secondo me, proprio è rarissimo che c'è qualcuno che inventa, infatti chi inventa poi esplode, no? Certo. Però, cioè, oggi un giovane, o comunque chiunque inizia adesso, ha diversi riferimenti, no? Sì. Cioè se... Tu dici anche dei persone... Di eccellenza, tra virgolette. Di eccellenza, sia da imitare, sia di argomenti di cui parlare. Sì, esatto, cioè uno ha tanti riferimenti che tu dici, ok, io per il montaggio posso guardare quello youtuber che ha uno stile, che se io replico, tra virgolette, o comunque rubo con gli occhi, no, come si suol dire, nel mio contenuto magari posso portare più gente, o comunque posso avvicinare più gente. Stesse cose nello stile in cui uno fa i video piuttosto che altro. Diciamo, questo quando ho iniziato io non c'era, anzi, io quando ho iniziato non conoscevo nessun youtuber tranne io, Dobby. Ok. E quindi per me, diciamo, ho sempre fatto la corsa su me stesso, cioè ho cercato sempre di migliorare quello che era. Sperimentare, vedere un po' quello che andava. Ovviamente poi sbagliando, facendo anche tanti fail, quello che tu dici, no, magari ti vergogni. In realtà tutto è servito per arrivare magari qua, che comunque non è un, cioè, non guardo indietro, ecco. Certo, come mai questa cosa dell'intellettuale con la penna in mano? Eh, no, perché oggi c'è il grande fratello, no, e quindi voglio, insomma, innalzare l'anno. In realtà perché ho bisogno di toccare qualcosa, sì, perché non ti vedo, cioè io sto parlando alla regala. Esatto, a un avatar purtroppo, però puoi vedere al massimo la replica in ritardo. Poi c'è qui la mia cosa, come si chiama? Ho qui la live e comunque non vedo donazioni ancora, eh, ragazzi. No, vabbè, donazioni poi, però vedo tanti iscritti, ci stanno tanti fan tuoi, assolutamente tantissimi. Poi mi piace che anche di quelli che già seguono il canale comunque scrivono ciao Antonio, ciao Mike, è un piacere vedervi. Quindi comunque piace anche questo confronto tra virgolette tra due mondi. perché poi, dicevamo prima, no, chiaramente molti dei tuoi fan non mi conoscono o comunque in generale conoscono meno il lato informazione classico, no? Posso citare magari non Gameplay Café che è appena nato, Multiplay.it, Eurogamer, Spazio Games, che sono un modo differente di parlare di videogiochi. Probabilmente, come dire, meno moderno perché chiaramente parlare a video è più empatica come cosa. Ti posso, ti posso dire una cosa, in realtà io non so, non so particolarmente d'accordo su questa cosa. È chiaro che quando tu leggi il pezzo, leggi il pezzo, però oggi io quando vado su un sito vedo che c'è, c'è anche la videorecensione, ci sono comunque momenti in cui c'è, in video si vede il giornalista, no? Se tu stesso lo hai fatto più volte. E in realtà se poi destrutturi tutta la cosa, come raccontavo, cioè parlavo appunto di questo proprio con Fossetti, con Francesco, cioè alla fin fine anche te sei un influencer. Sì, certo. Perché la gente, quando esce il gioco, viene da te, che sia sul sito piuttosto che sul blog, sul video e così via. Esatto, e vuole sapere la tua. Poi magari vuole sapere anche quella di Francesco. Certo, poi chiaramente ci sono diversi bacini di utenza e ordini di grandezza, però in realtà anche se si influenzano 50 persone è fatto un tuo lavoro, poi chiaro bisogna mettere in piedi tutti i vari fattori. Comunque c'è Genius, tra i tanti stanno scrivendo tantissimi e salutiamo, non possiamo citarli tutti, c'era anche Felicia e così via. Genius apprezzano, tutti quelli che comunque seguono già Gameplay Cafe apprezzano la chiamata tua, vedi che alla fine ci ho visto giusto, nel senso, perché mi è capitato in passato, sai, quando parlavo di youtuber subito mi assalivano dicendo, no, invece vedi, nel tuo caso… No, no, ma il motivo, ma guarda, se in realtà c'è qualcuno di questo, insomma, di questo tipo, no, che comunque ha delle… ma anche… Delle critiche da fare, esatto. Sì, della critica, comunque… Vabbè, te la faccio io la critica, dai. Ah, ok, no, no, però per il senso, avete curiosità di quel tipo, cioè io sono più apposta. All'altro, comunque, io vedo qui che siamo più di 400 che, secondo me, su Twitch c'è un solo… Sì, sì, tanta roba, poi considerando il canale, sicuramente anche grazie a te sono venuti tanto, però sono contento di gente che saluta e felice della presenza. No, dicevamo in realtà… Poi regaliamo soldi alla fine, ragazzi. Esatto, però Mike… Sì, fino alla fine, eh, cioè… Sì, però lui, eh, io sono l'intervistatore e lui caccia i soldi. Esatto, no, no. È un falso libro. È lì la fregatura. Esatto, la domanda subito ti faccio, buttiamola lì, se è ricco, se è ricco, si arricchisce tramite YouTube, è un lavoro molto buono, un lavoro discreto, un lavoro… ecco, cerchiamo di un po' capire come funziona la situazione, tra virgolette, sempre per grandi… Allora, guarda, ti do la risposta… Non politica. E poi la risposta seria. Allora, la risposta stupida è… Cioè, anzi, va, ti do prima la risposta seria, che è stupida, no, perché poi dopo uno ci… poi tagliano il pezzo e lo mettono su YouTube… No, no, non ti preoccupare, tanto la registrazione ci sarà tutta online. Sì, no, no, questa è una domanda seria, perché poi tanto si finisce sempre… Quando io esco con persone che non conosco, mi chiedono che lavoro faccio, io so sempre lei dico, non mi chiede che lavoro faccio, non mi chiedono che lavoro faccio, non mi chiedono. Sennò subito con le frasi fatte, no? Le frasi fatte, sei YouTube. No, 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 ma non conosco, quindi la seconda domanda è sempre quanto guadagni, come guadagni, cioè io sono… vabbè, sono ricco o no? Cioè io non sono ricco, a parte il Corriere della Sera, della Sera sì, però… Che t'ha fatto, proprio i calcoli in casa, che t'ha fatto il Corriere della Sera? Sì, secondo il Corriere della Sera sono il decimo YouTuber più ricco in Italia, con 500 mila euro di guadagni. Di fatturato l'anno. Magari, ragazzi, se stavo con 500 mila euro… Scusate, eh! Senti, mi dai a lavorare, ho scusato. Avete visto la stanza? No, vabbè, scherzi a parte. No, allora, ricco no. Posso, però per il mio tenore di vita, che non sono mai stato uno con voli pindalici, cioè che faccio il mio, insomma, insomma, va bene, insomma, sto bene. Sì, sta bene, diciamo che è un lavoro che fai anche perché c'è un ritorno e ti permette di stare tranquillo, ecco. Allora, sì, la cosa importante che voglio che questa mettetela su YouTube, cioè, lo YouTuber, cioè io faccio questo lavoro con passione. Non per… C'è un paraculo, ecco, non sei un paraculo. No, 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 ma senti… Ce ne sono di paraculi, sì, voglio, su YouTube. No, 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 ma guarda, in realtà… Cioè nel senso, gente che si costruisce il personaggio, cioè si forza di avere un personaggio perché sa che è la maniera migliore per catturare visualizzazioni e quindi campagna… No, no, vabbè, ma quello ci sta, no. Secondo me il paraculo da questo punto di vista, cioè, chi diceva, no, io questa cosa la faccio, faccio video per passione, faccio video per passione. Guarda, io, questo è il quarto anno, sto per entrare forse nel quinto. più o meno, boh, lo so, non so, non so, non so, ok. Io i primi due anni l'ho fatto, cioè, completamente gratis, tra virgolette, non c'erano i guadagni che… Cioè, per puro divertimento, vedi come andava, il fatto che… Sì, per puro divertimento, però perché mi piaceva e… Aumentavano i follow. Esatto, aumenta… Sì, esatto, lo fai per quello. Quindi io mi sono fatto due anni per passione, però io adesso lo faccio con passione. Cioè, non nascondo il fatto che c'è un guadagno, però è chiaro che, penso come te, come tutti, cioè, nessuno fa le cose gratis. Cioè, io per passione vado a giocare a calcetto. Bisogna anche campare. Anzi, la cosa figa è unire la passione al lavoro, poter fare qualcosa di… No, questa è la cosa più bella. Perciò siamo fortunati, soprattutto… Esatto. Cioè, voi e anche… Assolutamente un privilegiato di, insomma, di fare quello che faccio. Poi è chiaro che è un insieme dei fattori, però, insomma, il lato economico, ve lo giuro, è l'ultima cosa che guardo io. Poi c'è chi lo guarda e tutto. Però non è che viene da YouTube, cioè… Sì, allora, YouTube è una prima fonte di sostentamento in base alle visualizzazioni, giusto? Però, correggimi se sbaglio, nell'ultimo anno c'è stato un abbassamento delle revenue, è vero? Sì, sì. Ho fatto un casino tutto YouTube Italia, ho letto qualcosina. Evidiamo questo, però, insomma… E quindi quello è un primo canale, un primo mezzo. Poi, chiaramente, immagino che adesso, data la visibilità, data tante cose che fai, tu hai detto che c'è anche una società, chiaramente fai, immagino, fai anche altro. Ti tocco un'altra cosa, diciamo, spinosa, tra virgolette, che secondo me poi è una delle differenze tra chi scrive giornalisticamente, che non è una parola figa giornalisticamente, e chi fa su YouTube. Perché per me chi fa video su YouTube è anche un intrattenitore, non a caso, c'ha solitamente, soprattutto se i numeri sono importanti, un impresario, no? Il mino raio, magari meglio di mino raio, cioè si è rappresentato da qualcuno. Un manager, anche tu hai chiaramente l'agenzia, quella cosa serve soprattutto per lavori che vanno anche extra video, oppure per progetti speciali, per eventi, tu di cosa… quando è che utilizzi l'agenzia, quando è che l'agenzia entra in pista per te, ecco, che ti rappresenta? Sì, allora ti rispondo subito, però comunque sto leggendo la chat e insomma ci sono delle cose veramente interessanti a cui poi… Sì, sì, assolutamente, poi… No, perché insomma sono cose fighe, pure ho letto uno di Lolle, insomma è interessante rispondere anche a quello. Sì, sì, assolutamente. Allora, la cosa funziona così, cioè, per me l'agenzia è un tempo che si riduce, cioè, non nascondo che arrivati a un certo punto c'è l'attenzione delle aziende perché… Allora, considerate questo, se ci fosse una piramide egizia, no? E quindi a strati sociali come era proprio negli antichi egizi. Allora, lo youtuber sa non all'ultimo gradino, sta proprio sotto la piramide, ok? Quindi, cioè, è per quello che porta a livello di numeri e a livello di cose e poi per quello che poi è l'esborso economico per un'azienda, è il massimo profitto col minimo sforzo economico, quindi, insomma, tu vieni in realtà bombardato di, come si dice, proposte in continuazione, cioè, io per esempio, vabbè, insomma, c'hai questi… Vabbè, è chiaro. Quindi l'agenzia ti aiuta a scremare questo tipo di cose. A scremare, a trovarti le cose interessanti, a gestirti anche, immagino, gli impegni extra tuoi, perché tu il canale te lo gestisci completamente te, giusto? Allora, sì, il mio canale… Ah, sì, questo è pure un falso mito, se volete. Eh, esatto, io perciò che faccio queste domande… Sì, sì, no, no, è giusto, è giusto, perché, allora, io, dal punto di vista creativo, dal punto di vista del mio canale, cioè, il mio canale lo porto avanti io, le scelte sono le mie, domani metto FIFA, è perché io oggi ho registrato FIFA, cioè, nessuno mi ha imposto, domani fai quello, domani fai quell'altro, tutto quello che faccio lo faccio io, ok? L'agenzia mi aiuta se arriva, faccio un esempio, Coca-Cola, e io non so, cioè, io di fronte a Coca-Cola, non so che cazzo digli, cioè, nel senso, non so farmi… Scusa, eh, non so se… No, no, va benissimo, no, no, eh, voglio… Eh, no, no, per dire… No, non sai, cioè, tra gestisce comunque persone che sono abituate anche a fare quel tipo di lavoro, no, a capire quanto vali, le tempistiche, la tipologia. Che altro è questo, dal punto di vista creativo, poi l'idea ce la metto comunque io, e comunque io ho sempre fatto… E devi approvare, giustamente, quello che aveva fatto. Sì, però, nel senso, io ho sempre fatto cose che andavano bene per me e che pensavo… E che penso, insomma, vadano bene anche per chi mi segue, cioè, se viene la ditta di scommesse… Ma guarda che… Allora, guarda, questa è un'altra cosa che uno dice venduti, venduti, no, e fate tutto. Io, in realtà, ragazzi, mannaggia… Cioè, magari, hai capito? Magari, io… Perché… La maggior parte delle cose, insomma, io… Infatti, poi, passate il mio canale, io non faccio tanto, faccio poco, e che penso vada bene, perché se uno facesse tutto quello che gli arriva… Certo, sarebbe ingestibile, è un lato, e poi sarebbe anche molto renumerativo. Ma la stessa cosa va da che dicono a noi, lato nostro, venduti con i voti alti. E anche noi, anche io rispondo uguale a te, magari… No, no, ma sai, io ho ricevuto offerte, ma veramente tanti soldi, però se non erano cose che interessavano il mio canale, non ce lo porto. Come stessa cosa per la televisione, vabbè, tanto stiamo tra amici… Sì, sì, sì. Insomma, tante offerte, insomma, per programmi televisivi ospitati, quello che ti dicevo prima, cioè, per le aziende, tu porti una marea di gente che però, diciamo, sei valutato poco, no? Quindi, valutato poco rispetto a, che ne so, un Luca Argentero, rispetto a me, costa dieci volte di più, però magari il Luca Argentero ti porta cento persone al centro commerciale e tu ti ne porti duemila. Sì, tu ne porti duemila. Cioè, capito? Sì, sì, sì. Vabbè, lei è una questione chiaramente anche di autorevolezza percepita, non sempre vera, è chiaro, perché è anche quella percepita, oppure chiaramente l'attore che va nei film di Hollywood è una cosa, è l'attore uncolo, che però magari è molto più bravo o ha molto più seguito in Italia, non ha lo stesso cachet di quello di Hollywood. Ci sta, è normale. Però penso che sta cambiando un po' la cosa. Infatti in chat Scala96 e tanti altri chiedono di come è evoluta YouTube nel corso del tempo, anche come sei evoluto tu, nel senso tu hai detto che i primi due anni facevi le cose principalmente per divertimento, passione e vedevi crescere il canale. Adesso quanto stai attento al tipo di contenuto che veicoli e alle tendenze? Onesta? In realtà io sto sempre attento al tipo di contenuto che carico, cioè nel senso se io non avessi questo tipo di attenzione non potrei... Cosa succederebbe secondo te? Perderesti stima delle persone? Perderesti views? Cioè nel senso questa attenzione da cosa è derivata? Il fatto è questo, è che noi lavoriamo, cioè noi ci ambientiamo comunque in un sito YouTube che cambia in continuazione. Cioè in realtà YouTube, internet cambia in continuazione e lo sappiamo, però YouTube stessa è una piattaforma che cambia e non te lo dice. Quindi tu parlavi prima dell'apocalipse, ma gli algoritmi, ma le stesse tendenze e robe. Cioè quanti cambiamenti avete visto negli ultimi 4-5 mesi? Quindi tu, vivendo in un mare in costante tempesta... Che non è manco tuo diciamo, nel senso che... Sì che non è tuo, perché se viene YouTube e mi dice guarda da domani in tendenza ci finiscono questi contenuti, oggi se vai in tendenza, oggi ci sono praticamente estratti delle trasmissioni televisive, il lunedì c'è solo calcio, cioè quindi so cose un po'... cioè ormai non c'ha più l'importanza di prima. Io stesso feci una serie sulle tendenze che erano strane, che da un giorno all'altro erano cambiate e vedevi in tendenza cose assurde, serie tv senegalesi, cose pazzesche. Ci fai un po' dell'ironia, però insomma tu sei in un mare in continua tempesta e devi capire un po' dove devi andare a remare. Però sinceramente io non penso di aver mai fatto cose che non volevo fare. Cioè io, per rispondere a Skaio, mi pare, si chiamasse, cioè io è vero, io ho iniziato su YouTube come gamer, no? Cioè facevo solamente World True, che poi World True è una parola sbagliata, perché io non faccio... Cioè non è veramente un World True, non è neanche un let's play, per citare un sabbaku, cioè quello... Io faccio delle blind run che però sono itineranti, tra virgolette. Poi è un po' difficile spiegare sta cosa a chi non l'ha mai vista, perché se te la spiego e chi non l'ha mai vista diceva, vabbè. Sì, però purtroppo è così, è un format che io ho iniziato appunto accendendo tutto e registrando e oggi è completamente cambiato appunto per rispondergli. Cioè è stato potenziato, è stato tutto studiato, arrivati a oggi ti dico che se tu guardi un World True sul mio canale, tu guardi effettivamente una blind run con approfondimenti su quello che sono i personaggi, perché tanto è difficile beccare nuove IP che quindi sanno giochi che tu non conosci niente, spesso e volentieri sono... Esatto, quindi insomma con approfondimento sui vari personaggi, approfondimento su situazioni che possiamo incontrare, per esempio in God of War, l'ultimo gioco che ho fatto, c'era tutta la mitologia norrena, cioè io molto prima che uscisse il gioco, qualche settimana prima ho fatto una full immersion, mi sono andato a studiare tutto quello che potevo... Esatto, c'è uno studio dietro. Certo, cioè se arriva a essere comunque la serie più vista in Italia su quel determinato gioco è per che c'è... Lei ha sempre preparato anche i suoi. Sì, nel senso io lo dico con orgoglio, no, questa cosa, perché comunque c'è un lavoro, non è semplicemente accendo, registro e gioco e tu mi guardi mentre gioco, cioè in realtà se tu vieni a vedere una serie sul mio canale neanche mi vedi, perché io non metto la facecam. Sì, esatto, parti soltanto all'inizio e poi c'è il... Sì, introduco e poi è come se tu vai... Vabbè, in realtà chi guarda quel tipo di contenuto è molto heterogeneo, però il mio goal sarebbe quello di trasportarti al mio fianco, come quando io da ragazzino giocavo insieme a mio cugino nella stessa stanza, magari io giocavo però l'esperienza era condivisa, cioè io vorrei che tutti, come se fossero lì insieme a me, e condividiamo questa cosa. Spero, insomma, di riuscirci, insomma, è una cosa... No, vabbè, la serie è su Gov e poi se non sbaglio farai anche quella su Detroit, giusto? Sì, ripeto, io ho iniziato, ecco guarda, per dirti come si è evoluto, no? Cioè io ho iniziato facendo solo World 2, poi mi pare da due anni a questa parte mi sono aperto anche all'intrattenimento. Oggi è chiaro che l'intrattenimento ha preso un po' più il sopravvento sui videogiochi, ma non perché io... Eh, perché ha preso... cioè scelta naturale, tendenze, appunto... Allora, scelta... no, 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 tendenza sinceramente no, ma anche perché è molto più semplice... In realtà, ma adesso sto sicuro che qualcuno non sarà d'accordo su quello che ho detto, però in realtà, cioè, videogiochi un po' perché arrivati a un certo punto non puoi fare tutte le uscite, poi soprattutto perché non tutti i videogiochi interessano a tutti. Cioè, se esce God of War... È una cosa. A me in primis mi interessa, però interessa un po' a tutti. Fai Dragon's Crown Pro, che è un'edizione, è un po' complesso far numeri e interessare tante persone, no? Sì, e comunque il World 2, cioè, non ha magari tanto tempo di montaggio, che poi non è vero perché io faccio tantissimo editing audio, cioè, non sentirei mai io che parlo su una cutscene perché faccio editing audio, però, insomma, magari è molto faticoso a livello di tempo, ok? Quindi quel tempo che io... Purtroppo, ragazzi, il canale è come se fosse un'azienda, no? Certo. Cioè, almeno io poi sono fissato che mi piace vedere più o meno sempre i stessi numeri su tutti i video, io preferisco essere uno che fa centomila su tutti piuttosto che... Che depicchi enormi e poi dopo... Un milione su un video e poi il resto fa schifo, quindi... Che poi sono fortunato perché le persone mi seguono un po' su quello che... su tutto quello che faccio. Infatti, ragazzi, grazie, grazie a voi perché sennò io non farei. Però, insomma, è dettata pure dal momento, cioè, i gameplay non hanno più l'importanza che avevano appunto due anni fa sul YouTube. Su YouTube soprattutto. Esatto, esatto, esatto. E quindi comunque si segue anche un po' quello che succede, esatto. Sì, però, sì, però, guarda, ti voglio dire questa cosa perché poi voglio pure rispondere a quello che ha scritto Lolle, mi pare. Sì. Perché diceva, insomma, che... Ok, sei partito così, poi dopo ti sei omologato alla moda facendo video... Sono le frasi, esatto, le frasi pure un po' così. Però, ecco, posso raccontare questa storia che qua in live è figa. Sei tu il protagonista stasera? Sì, no, no, perché, sai, questo confermeranno anche i player inside. E è successo esattamente un anno fa di sto periodo. Allora, per farti capire come quando tu ti impegni tantissimo per fare dei video e poi non se li guarda nessuno... Poi fai il cazzo... Esatto, fai una cavolata e se la vedono un milione di persone. Il pallone, il famoso pallone, di cui io ho fatto solamente cinque video, mi pare, e ci hanno tutti oltre un milione di visualizzazioni. Ho fatto capire, insomma, come YouTube poi degenera, no? Quanto poi la cavolata interessa di più rispetto magari a un gameplay che può essere molto più... Autoriale anche. Sì. Sì. Poi magari, quanto ha fatto, quando l'ho visto... Vabbè, dipende dalla puntata, due, tre, quattro... A seconda della... Sì, considera però che... Beh, sì, la prima puntata dà 500.000. Però mi immagino che la gente che... Quei 400, 500.000, 300.000 che hanno seguito Cadobor siano tipologie di persone un po' più interessate alla discussione, a parlare con te, a seguirti, a dare un feedback rispetto a quel milione del pallone. Nel senso, facendo un milione col pallone vai a beccare anche persone meno attente. Ma è chiaro, cioè... È chiaro, è chiaro, cioè, nel senso... È chiaro che quando io faccio un walkthrough, a parte anche io come... Vabbè, in realtà poi fai... Sono cose diverse che uno fa... Cioè, il video cazzone ci sta perché tu c'hai voglia di esprimerti in un altro modo. Cioè, io sono un cazzone nella vita e quindi io mi diverto a... L'importante è che sia un cazzone nella vita anche. Sì, sì, assolutamente. Quello stesso. No, però, è chiaro, in realtà chi guarda un walkthrough, chi guarda quel tipo di video, è, dicevo, è derogeno. Perché c'è chi ti segue indipendentemente da tutto, c'è chi ti segue perché sa che tu lo giocherai bene, gli fai quel tipo di approfondimento, i momenti didattici, come li chiamo io, eccetera, eccetera. C'è chi invece passa solamente perché vuole vedere il gioco com'è, poi magari l'acquista. C'è chi vuole vedere come superare quel boss, piuttosto che... E poi dopo fa per sé. Quindi, insomma, in realtà c'è tanto tipo. Mentre il video casual, quello di intrattenimento, è chiaro che paladossalmente più... Vabbè, ma ci sta se nemmeno l'alternanza. Però, vabbè, la storia è questa. Cioè, io dovevo partire appunto per Los Angeles, per l'E3, e mi sono ritrovato che, insomma, dovevo coprire quella settimana, no? Che non ci sto, quindi io solitamente quando non ci sto mi anticipo i video. Non sapevo che fare, ho detto, mi serviva qualcosa a blanda, e avevo comprato questo pallone su Amazon, non so quando l'avevo visto, però, insomma, è piuttosto famoso in realtà questo pallone. L'ho comprato, ho detto, vabbè, senti, dai, domani devo partire. Ho preso questo pallone, ho registrato, lo giuro, un quarto d'ora con questo video, l'ho montato in 45 minuti, e l'ho messo. Quel giorno stesso, partivo per Los Angeles, insieme a Player Inside e tutto, e c'era Raiden che mi fa, oh, mazza, è andato bene questo video, no? E io l'ho aperto, ho detto, mazza, ha fatto effettivamente delle visualizzazioni clamorose, non me ne ricordo. Poi prendiamo l'aereo, 12 ore di viaggio, arrivati a casa, c'aveva delle visualizzazioni pazzesche, mezzo milione in un giorno, cose così, e io a Gianluca gli ho detto, oh, ma... Ci abbiamo capito nulla. Sì, ho detto, guarda, io pure mi quasi volevo giustificare, dirgli, guarda, io ti giuro, non lo volevo fare, sta cosa. Non volevo. Non è quello, secondo me, il punto. L'intrattenimento, la condivisione anche di cose che vanno extra. Qualcuno ha scritto, chiaramente, allora, Mike, stai dicendo che quindi i let's play, i gameplay, non funzionano più nel 2018? Questa è la tua affermazione? O semplicemente vanno affiancati? No, sto dicendo che se tu fai un gameplay, fai sicuramente meno visualizzazioni rispetto a un video di intrattenimento, che per il video di intrattenimento potrebbe essere una challenge piuttosto che altro. Su questo, ragazzi, cioè, voi potete dire no, io posso dire sì, io posso dire quello che comunque... L'esperienza personale, certo. Sì, è la mia, cioè, insomma, io ho il mio canale, quello che funziona sul mio. Per me è questo, però, in realtà, cioè, non pensiate che... Scusate, che sto a dire? Non dovete pensare che... La licenza poetica. No, sì, vabbè, in realtà ci stava, però volevo dire questa cosa qui, che non dovete pensare che uno fa l'intrattenimento perché il gameplay non va più. Perché, per esempio, io vi dico, in estate non ci stanno i giochi, difficilmente esce il gioco. A parte a giugno, magari, luglio-agosto non c'è niente. Certo, quindi devi comunque tenere in vita il canale e far fare qualcosa. Esatto, tu c'è comunque un canale. Ma neanche a me mi va poi, effettivamente, ripeto, guarda, la serie, almeno per come la faccio io, succhia molta energia emotiva. Io quando finisco una serie, ne so, tipo, vabbè, non voglio fare spoiler, però vabbè. Vabbè, non posso fare spoiler, mi è venuta in mente una cosa. Comunque, se ti dà... Sì, sei svuotato, sei completamente svuotato. Sì, la stanza, la resistenza si svuota. Quindi devi anche alternare proprio nelle tipologie di video che fai. Vabbè, ci può stare tutto. Poi, scusami, diventi una persona comunque famosa, perché attualmente c'hai un milione e sette, giusto? Sì. E quindi ci sta anche condividere parte, da un lato parte della vita privata, dall'altro il proprio carattere. Se tu sei un cazzone nella vita e ti piace fare anche ogni tanto intrattenimento, non è un problema. Secondo me può essere un problema quando all'inizio vuoi fare cento cose in contemporanea e quindi non c'hai una definizione, la gente non sa, ma chi è questo? Nel momento ormai che hai raggiunto una certa visibilità, ci sta anche che vuoi condividere il tuo cane, oppure quello che fai, la maglietta che compri, oppure il pallone. Secondo me è naturale. Anche noi, il nostro piccolo, dopo tanti anni, cominciamo a condividere cose che magari essono dal lavoro vero e proprio. Sì, ma vabbè, in realtà però, quello che ti dicevo prima, il mare è in tempesta e in continua, cioè ci sono onde continue. In realtà quelli che mi seguivano magari due anni fa non mi seguono più oggi e quindi c'è un riciclo di persone. Certo. Quindi sono sicuro che anche chi scrive qui, cioè in realtà il pallone, paradossalmente, è un contenuto che però sicuramente non interessa al ventenne in su, però magari il quindicenne ci ride gli farì. Certo, sì, certo. Io stesso so che quel pallone non c'ha la camera d'aria, quindi quando io faccio il video sono consapevole, però ironicamente trollando dico oddio è impossibile, che cosa facciamo? Ma io so che quel pallone non c'ha la camera d'aria, cioè non è che so stupido, cioè è questo che magari uno dovrebbe guardare un po' un po' certo. Oltre la cosa, cioè nel senso ci sono contenuti adatti a un pubblico, a un pubblico rispetto ad altri. Questo milione e sette da cosa è composto? Cioè tu che hai accesso sottomino. Io, ah ma tu vuoi i dati demografici? No, 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 però in generale, nel senso dico, no, 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 scherzo, scherzo. No, dico nel senso le persone sono molto eterogenee a questo punto, immagino. Questo è chiaro, però io in realtà la cosa più brutta, paradossalmente, è che noi siamo desensibilizzati, ma io penso come anche te, cioè noi adesso siamo in 500, ammazza quanti siamo? Siamo un botto, bravo Mike. Vabbè. Vedi, ti seguono ovunque. Ecco, ho detto 500, boom, 400. Vabbè, insomma, noi adesso siamo in 500, però in realtà tu non c'hai percezione quante siano 500 persone, cioè tu non le sai chiudere in una stanza, l'occhio umano, devi sapere che oltre a un certo numero non sa quantificare, magari se tu metti in una stanza 100 persone, l'occhio non sa quantificare 100 persone, dice sì, eravamo 500, invece eravate 100, oppure eravate in 500 e dice ah, eravamo in 3000, viene anche dalla stanza quanto è grande. Sì, vabbè, è chiaro, però capisci, quindi in realtà noi siamo un po' desensibilizzati in questo, è la cosa più brutta e la cosa più bella allo stesso tempo perché tu magari sei abituato a parlare a 100.000 persone, fai finta, a video, poi quando esci di casa capisci, oppure vai alle fiere o vai agli eventi, capisci quanti erano, cioè effettivamente il numero qual è, cioè c'è lì il ritorno. però io nel mio canale so di certo che ho diversi tipi di pubblico e non posso accontentare tutti quelli che mi seguono. Con tutti i video che fai, certo. Esatto, se faccio il video di FIFA so che le ragazze che mi seguono, che magari non saranno tantissime, sono quel 20%. Eh, quanto sono il 20%? Questa è una curiosità pura, più o meno. Sì, tra il 20% e il 25%. Che non è male, parlando di videogiochi non è affatto male. però, sì, appunto, parlando di videogiochi non è male, però quel pubblico io ti posso... Te lo prendi anche per l'intrattenimento, dici. Esatto, ti posso dire che è preso per l'intrattenimento. Comunque stiamo facendo il mazzo alla Valentina Nappi, Tu lo sai che Valentina Nappi che conosci, spero, sì. Conosco. Fai fitta di nulla. Ma va, comunque la mia compaesana di Pompei, se non è di Pompei lei, cioè... Vedi che la conosci? Sei messo a fare i video su Final Fantasy 15 su Twitch. Quindi, ti dico solo questo, così, a un certo punto, però, ed è molto vestita, molto più vestita di tante ragazze che sono su Twitch. Vabbè, niente. Guarda, non mi tolgo il cappello perché c'è un mistero qui sotto, quindi non me lo tolgo, però me lo levo. C'è una gallina. No, no, magari... L'uovo. Esatto, è tra un po' l'uovo. Però, insomma, Final Fantasy 15, insomma, apprezzo, apprezzo. Sì, lei ha giocato anche il 9. Sì, sì, vabbè. Poi, in tanti ogni tanto abbracciano il videogioco, no? Ne parono, mi è capitato di vedere... Vabbè, diciamo che Valentina Nappi è la mia califa low budget, insomma, su Twitch. Vabbè, no, però è molto spontanea. Sì, sì, low budget. Che è proprio la versione low budget. No, però ha sfondato tanto in americano. Sì, ha sfondato, sì, è sfondato. ecco, ecco, è un momento intrattenimento. Un momento stupido intrattenimento, esatto, super bescero. All'altro posso far notare, visto prima, diciamo, sei ricco, no? Sì. La qualità della mia webcam con la qualità della tua? Cioè, ragazzi, guardate questo, fissate bene questa live e poi chiedetevi chi è il ricco tra i due. Aspetta, la prima da gente che penso che sono ricco perché io... Un po' un casino. In questa fase di transizione tiene di no, ma tanto le webcam sono pochissime in realtà quelle che funzionano. non so quale tu c'hai, io sono la classica Logitech su quelle, su quelle bocche. È forse una questione di luce. È la luce, è la luce. Su quello siete imbattibili, fate delle cose meravigliose. no, vabbè, a parte gli scherzi, comunque... Sì, quindi, parlavamo quindi di demografia. E senti, allora, quando è che invece un video ti rende triste? Cioè, quando è che sei triste dopo aver pubblicato un video? Quando gli accessi sono pochi, quando ti arrivano, se ti sono mai arrivati una sequela di critiche su roba che invece tu reputavi buona? Nel senso, cos'è che ti fa un po' intristire, se capita, quando pubblichi un video? Intristire è una parola sbagliata, magari più arrabbiare. Quindi ti arrabbi solo te, sei solo un cazzato. Sì, ma sai che c'è, allora, io quando faccio un video brutto lo so. Cioè, se io faccio un video domani, faccio un video su... e so che il video è debole, ma aspetto che non vada bene. Cioè, io a parte sono malato, cioè, nel senso, io tengo un foglio Excel di tutti i giorni dal 2016 e ogni giorno ogni video che ho messo a... E' un tesoro quello, se riesco a rubartelo... Beh, io dico sempre, noi... Cioè, anche questo è il mio lavoro, so che magari uno può sembrare accessivo, ma questo è il mio lavoro, sapere quanto... Cioè, quando non li monetizzano, quando non li monetizzano effettivamente sono un po' triste, però... Però, ecco, però fa parte della risposta che volevo dare, cioè, al di là di tutte le cavolate. Quando però magari io ho lavorato tanto su un video e non hai il riscontro dovuto, però, non solo perché magari il video è debole, perché come hai detto, so, spesso e volentieri so quando è debole, ma quando magari c'è di mezzo un non funzionamento della piattaforma, quindi, non vanno i feed, te lo demonetizza, Quante volte ti capita il fatto che ti viene non monetizzato? Cioè, va ondate? Eh, va ondate, va ondate. Ma sai che c'è, in realtà, se io so che ho messo un contenuto particolarmente forte, cioè, nel senso, io di mio sono consapevole quando faccio i video, ok? Quindi se non ho problemi a non monetizzare, perché anche perché tu non pensai che quando monetizzi un video prendi chissà quant'è, è la somma di tutti, i video sul canale, eh, ma, insomma, non è che se io, cioè, a volte tu magari fai 500.000 visualizzazioni e fai 100 dollari, ma in un mese però 100 dollari, no? Con quelle 500.000, quindi, insomma, è una cosa particolare, non è, ecco, quando noi dicevamo, youtuber, sei ricco, sei quello, sei, ma tu devi arrivare, credo, se tu vuoi fare quello che faccio io, tra virgolette, che è onesto, cioè, devi lavorare quanto lavoro io, quindi, se tu sei disposto a fare questo, allora io, devi essere appunto un lavoro, posso io, auguro sempre, auguro sempre alle persone di fare di più, ok? Quindi dici, vorrei fare come fai te, no, devi scalare un po' la classifica, se tu corrivi alla serie, sei decimo, devi puntare top five, eh, sì, poi però viene la finanza e tu gli devi spiegare, ecco, tutte le tasse che ci sono, e tutto, al finanziere che, che non è vero, sì, vabbè, vediamo questa cosa, tutti quanti in Italia, purtroppo, poi in relazione a quanto chiaramente prendono, guadagnano, senti un po', solitamente tu quante ore al giorno dedichi, realmente, cioè nel senso, se dovresti dire, guarda, al di là del cazzeggio, al di là del fatto che magari ci vuoi dedicare anche di più, quante ore lavori solitamente al giorno? Allora, allora io, io purtroppo, allora, beh, io, vabbè, non voglio entrare in questa cosa, però, insomma, io, diciamo che c'è un pre e post, pre operatorio e post operatorio, e chiaramente dopo, vabbè, dopo se è stato male e tutto il resto, ho cambiato un po' la mia visione della vita e soprattutto della vita lavorativa, ok, sì, cioè nel senso, quello che era più, era super importante prima, a oggi, è super importante, ma non vitale come era, fondamentale come poteva essere prima, quindi certo, e, che è successo? Ti sei, no, scusa, scusa, ti ho bloccato, e quindi sì, quindi dai un valore di più anche al tempo libero, vabbè, ma ci sta, se non mi ha anche, ma a parte nella tua situazione che hai passato, anche nella crescita, tu dici, ok, lo diceva anche Sabau, che a un certo punto dovrà mollare certe cose, non può stare 24 su 24 davanti, vabbè, in realtà Sabaku ha un processo produttivo, cioè in realtà, un po' diverso da, cioè in realtà, no, c'è un processo produttivo molto, molto lento, e forse, in realtà, potrebbe migliorarlo, secondo me, poi io, io ci ho parlato con lui spesso e volentieri, quando mi racconta un po', rimaneva un po' così, per quello però che faccio io, però, la mia giornata è completamente dedicata al lavoro, cioè se vuoi fare un video al giorno è così, però se io, come detto prima, non volessi dedicare tutto questo tempo, potrei, però in realtà, ma se ti trovi a farlo, ma è qua che entra in gioco la passione, tra virgolette, ma ci vuole, perché senza passione come fa a stare sempre a far video, quando è che fai la parte davanti alla telecamera, cioè c'è una routine, tipo sempre la mattina, o cambia, nel senso? Guarda, purtroppo la cosa fondamentale è l'idea, e dovendo fare un video al giorno tu non sempre hai l'idea, tra virgolette, a volte te le prepari prima, quindi magari c'è una settimana schedulata, sì, schedule, e sì, è schedule, e quindi, altrimenti, magari l'idea viene la sera, l'idea viene il pomeriggio, quindi, è un po'... Però mantieni i tuoi orari di pubblicazione più o meno costanti, giusto? No, 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 è tutti i giorni alle due, a parte oggi che non ho caricato. Esatto, ho visto l'autoste resiste. Antonio, purtroppo... Devi dare una costanza e anche un appuntamento fisso alle persone, giusto? Quello che dicevo prima è questo, cioè tu devi... La costanza è la prima cosa, però, cioè, il fatto che tu... Cioè, è il tuo lavoro, cioè il mio lavoro è mettere un video alle 14 tutti i giorni, cioè tu, per esempio, paradossalmente, le persone, cioè è vero che io posso anche non caricare un mese, ok? Però non caricando un mese ovviamente non guadagno e tutto il resto, ma esattamente come il panettiere se chiude la panetteria a un mese... C'è un ritorno negativo, ecco? Poi uno può anche scegliere di dire... Mi fermo un attimino. Cioè, la panetteria rimane là e sta lì e quindi chi ci comprava il pane magari poi va a comprare il pane al supermercato, però invece nel caso nostro poi non solo tutto quello che ne consegue, ma anche YouTube poi abbassa la tua visibilità che hai sul YouTube e tutto il resto, però sai, sono cose un po' particolari che... cioè non dipende solo da te, ok? Quindi tu dicevi sei triste, in realtà... Ti incazzi quando non dipende da te. quando sai che la piattaforma non ha funzionato. Allora ti chiedo invece quando è che ti... Cioè, appunto, ti incazzi oppure sei triste per qualcosa di tuo, ecco, lascia perdere la piattaforma. Può capitare quando non c'è voglia, cioè ti capita ogni tanto giustamente perché se tu non conosci sabato e la domenica, non conosci fermarsi, magari ci sono dei momenti in cui c'hai un po' meno voglia perché non è che se devi avere la passione 24 su 24 nessuno ce l'ha, nemmeno il calciatore o chi fa i film porno, ecco. Vabbè, ma cioè, in realtà l'equilibrio lo devi trovare. Io penso che, appunto, post l'ho trovato, cioè nel senso che se... Mi sono accorto che se un giorno non carichi non succede niente a nessuno. Poi è chiaro che poi se non carichi due o tre giorni, in realtà forse la gente neanche se ne accorge ma te ne accorgi te che ti manca. Certo. Quindi forse forse devi trovare sempre lo stimolo. Poi l'equilibrio come dicevi tu alternare magari tipologie di video. La run di God of War ad esempio, in quanto l'hai fatta? Cioè nel senso tu quanto l'hai che fai? Registi più episodi l'uno dietro l'altro o te ne fai davvero... Come fai a gestirtela? No, io allora io intanto sto morendo di galdo se vedete cose un po' strane che c'è queste luci sparate. Ecco in diretta a Mike che si squaia. Dai, yeah. Sì, sai, no ma tu non so se mi voglio ma ogni tanto ma mi... Ma bene, ma bene. Ma è una diretta molto informale ma sì, ma che... Ma che ci frega. No, vabbè ma allora quella lì allora c'è un lavoro un po' è stato particolare perché il gioco me l'hanno dato penso come a te due settimane prima dell'uscita. Certo. Quindi io volendo avrei benissimo giocato tutto e registrato tutto un one shot tra l'altro mi sarei anche evitato forse qualche spoiler però tornando a quello che dicevo prima è che voglio io? Io voglio che nella mia serie oltre a approfondimenti intrattenimento ma comunque spazio al gioco ci sia anche il rapporto con chi chi la segue sì ok? Quindi per me è importante anche leggere quello che dico io convolgo la gente perché poi voglio un ritorno che poi mi aiuta anche durante la serie Certo magari ti puoi un attimino modificare qualcosa o comunque No 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 non in quel senso nel senso che ne so io non parliamo di God of War no? Sì Ti dico secondo voi perché è successo questa cosa ma secondo voi se noi facciamo questo allora questo personaggio potrebbe cioè speculo moltissimo certo ok? Io faccio una speculazione paurosa Anche sulle foglie a terra No vabbè quello no 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 Allora guarda a me fa molto rite quando c'è la cosa di Sabago perché in realtà questa cosa io la faccio un po' da prima però diciamo visto che c'è un secondo me ci rivolgiamo a particolari a diversi tipi di pubblico salutiamo scusa salutiamo i player inside sull'oro giusto sì immagino sì tv dipende allora se adesso Raiden se adesso Raiden dona ci dona dei soldi caccia sordi Raiden è lui è lui è lui ciao no 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 scherzi a parte insomma io uso un registo linguistico adatto a chi mi segue cioè a parte io uso questo perché questo è il mio no però insomma che dicevo ah sì però sì sì la serie sul fatto che quindi non che molto ma in molte profondità coinvolgi tanto le persone giustamente e speculi tanto e quindi ho aspettato che uscisse il gioco mi sono fatto tipo due o tre episodi prima dell'uscita e poi dopo ho aspettato chiaro poi dopo c'è gente infame che viene solo per spoilerare fortunatamente io sto sempre un paio di puntate almeno una o due avanti alla puntata che scarico così almeno dici un minimo di spoiler te lo devi però poi succede ho visto anche proprio su youtube veramente hanno caricato al lancio e anche prima dei video con il boss finale nella copertina delle robe fuori allora sì noi ci abbiamo sono folli esatto esatto noi ci abbiamo dei vabbè tu lo sai abbiamo le guidelines poi io per fare il world true soprattutto quello fuori era molto restrittivo cioè non mostrare quello aspetta tot giorno cioè puoi iniziare la serie tot giorno però non puoi mostrare quello fino a esatto una certa data ah no questo era far cry che fino a un certo giorno non potevi mostrare quello però puoi iniziare vabbè comunque era molto restrittivo perché ovviamente se il gioco è basato sulla storia e tu gli spoileri chi è quello chi è quell'altro che succede a quello come muore quell'altro muore è un esempio eccetera si 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 diventa un casino però però aspetta però posso dire questa cosa perché anche a me viene viene come si dice mi viene detto eh però tu metti le copertine che spoilerano e bla 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 allora è un po' diverso rispetto a chi carica il video in one shot e dice boss finale questo finale segreto è un po' diverso però io questa cosa la faccio cioè però perché io faccio la serie per chi mi segue non per chi non mi segue so che cioè se non mi segui dici vabbè che ragionamento è però io ho l'interesse che le persone che stanno seguendo la serie vengano attratte da quel coso a parte che non è quasi mai spoiler però magari tu non ci stai giocando vedi entri vedi la copertina e succede un qualcosa però è perché è rivolto a delle persone che consapevolmente stanno seguendo quella serie quindi è un po' so che con queste parole è difficile spiegare sì sì ok è un percorso che fai esatto noi stiamo facendo una cosa insieme quindi è chiaro che se tu non partecipi e vedi faccio un esempio che in copertina c'è Kraudos senza testa e dici me l'hai spoilerato ho capito però non è uno spoiler per chi segue la serie certo e per chi arriva così all'improvviso ma io penso la gente non dovrebbe proprio camminare su youtube il giorno del lancio dei giochi però un po' in generale perché comunque lì è spoiler costante di tutto guarda se tu mi chiedi se tu mi chiedi perché la gente non gioca e segue qualcuno che gioca per lui allora qua io sono il primo a non darti la risposta non lo so neanche io e meno male c'è questa bella pratica piacevolissima senti quanto è importante copertina titolo lo faccio un po' è tutto è tutto tutto tu puoi fare il video brutto cioè quando tu fai il video brutto e dici ah non ci sono entrati perché il video è brutto no cioè ha fatto poche visualizzazioni perché il video è brutto no ha fatto poche visualizzazioni perché col titolo e la copertina non li hai attratti perché tu puoi dopo essere entrato puoi dire che è brutto brutto quindi magari rientrarci esatto lasci non mi piace commento negativo no cioè ci sta tantissimo anzi la critica costruttiva è importantissima secondo me però se non c'entrano proprio però non vuol dire fai il clickbait perché clickbait è un'altra cosa un'altra cosa tu devi diciamo che qualche frase d'effetto ci sta tu vedo che utilizzi spesso assurdo assurdo no quello è un altro però magari mi capita tipo non ci credo in alcune serie se succede qualcosa io non ti posso scrivere muore sto tizio però scrivo non ci credo quello che è successo vabbè certo per estuzzicare ma no perché sennò scrivi è morto questo oppure spesso scrivo lacrime virili che è un termine coniato così nei momenti in cui c'è un momento particolarmente emozionante nel lacrime virili Fausto Mattolini rispondiamo a Fausto Mattolini che là e ve non leggete in realtà stiamo leggendo ogni tanto chiaramente leggiamo commenti e domande interessanti poi fra un po' poi compatibilmente alla disponibilità anche di Federico passiamo proprio alle domande in chat quindi non vi preoccupate questo è anche un po' per confrontarsi senza parlare di cose che facciamo sempre quindi io parlare classicamente videogiochi e Federico semplicemente fare le sue cose quindi ci stiamo un po' confrontando poi dopo assolutamente rispondiamo alle vostre domande e non spammate perché appunto ci sono i moderatori ho visto già un paio sono stati fatti fuori perché spammavano centinaia di faccine ed è ingestibile la chat tra questo punto di vista io ragazzi se c'è domande sto stai apposta ma hai visto non c'è proprio filtri anche perché non c'è non c'è niente da nascondere guardate ragazzi io voglio fare anche una precisazione c'era anche Raiden prima in chat o Midna io questi ragazzi io sto invitando anche persone che magari non sono proprio colleghi al cento per cento ma sono tutte persone che ho avuto il piacere di conoscere anche dal vivo e quindi a me fa veramente piacere quando c'è un confronto proprio di mondi di punti di vista o anche certe volte poi in realtà ci troviamo a fare le stesse identiche cose chiaramente tu sei del 90 giusto? sì quindi io sono dell'80 sono un vecchietto però tendenzialmente condividiamo tante cose insieme anche extra dopo magari ci buttiamo due paroline sul calcio sulla pizza cioè e quello è il bello di fare queste cose confrontarsi e divertirsi esatto secondo me secondo me è anche bello che la persona o il personaggio che tu guardi solitamente fare determinate cose esce poi fuori dallo schema perché è difficile sentire poi parlare che ne so esatto poi è chiaro che nelle mie corde magari invitare uno youtuber senza far nomi che è proprio urlatore folle che fa solo intrattenimento non ne sarei forse nemmeno capace da intervistare e chiacchierare perché io sono l'opposto però sai sì però sai in realtà magari è molto personaggio la persona è completamente diversa è una cosa esatto volevo anche aggiungere che Federico Michele Sabacu Gianluca e Maria Elisa persone squisitissime che hanno accettato sempre i miei inviti per una chiacchierata perché poi è una cosa sia chiacchierata è una cosa fare il lavoro insieme che poi sono tutti altri concetti però è il bello che poi siamo tutti persone normali chi è più visibile chi è più noto chi è più famoso chi meno però alla fine se c'è da parlare di videogiochi se c'è da fare informazione una chiacchiata sono sempre tutti disponibili e sono persone normalissime ecco perché poi talvolta io immagino soprattutto te voi che comunque avete dei numeri stratosferici è chiaro che quando andate in una fiera lì diventa anche intanto scrivo Tanzel non nappi è difficile è difficile in una fiera come dire parlare con tu lì è veramente un carnaio è un casino è ingestibile non perché non voglio incontrare persone ma secondo anzi se ci sono occasioni insomma se qualcuno mi incontra per stata anzi sono sempre felice è solo che lì le fiere in Italia in Italia a parte i rarissimi casi sono sempre stati tipo la mangiatoia il circo esatto e poi giustamente quando tu vai in un luogo pubblico la gente si aspetta che tu ti fermi un attimo cioè fa parte ma io non lo fai però nel senso dico fa parte del personaggio chiaramente se il lettore ha la possibilità di vederti dal vivo una chiacchiera una foto un autografo vuole farlo però effettivamente spesso e volentieri le fiere diventano un casino enorme però il Comic Con è un po' differente Fede magari vediamo l'anno prossimo ti potranno confermare i ragazzi che sono venuti io ho visto ovviamente dopo quando l'hai ricaricato ho visto tutti e due gli interventi sia di Inside che quello di cioè è praticamente quello che stiamo facendo qui esatto ma la mia idea è quella almeno se ho una qualità tra virgolette nel senso non essendo nato come intrattenitore è cercare di fare qualità unendo anche la chiacchiera la faccia ecco perché è anche bello la gente che ti guarda sa chi sei e tutto a tal proposito infatti come sta Ambra tutto bene? tutto bene perché che è successo? no non niente dico Ambra tra parentesi ti sposi no? dopo l'estate ebbene sì ebbene sì Ambra è un pezzo di tua vita che è conosciuto anche online in realtà anche lei ho visto che c'è il suo canale cioè nel senso fa anche lei delle cose che presuppongono visibilità online ecco come gestisci il veicolare la tua vita privata online? cioè come scegli come non scegli ecco Ambra per cambiare discorso non è per cambiare in realtà era la scusa pensavo che hai detto perché che hanno scritto oppure ha scritto un cacchio no no innanzitutto voglio rassicurare tutti quelli in chat che in realtà non sto sudando sono semplicemente rosso e c'è perché c'è questa luce molto forte ma niente sudore no però questa cosa in realtà io nonostante non sembri no perché ma io ho sempre cercato di tenere la mia vita privata cioè cose molto private fuori dalla cosa pubblica chiaramente ci sono cose che sono talmente tanto importanti per me o comunque grandi che forse cose non puoi ovviamente la mia ragazza perché ha condiviso questa cosa questa avventura che ho fatto che ho iniziato e insomma è stata lei la prima anzi quasi l'unica che mi ha sopportato in soprattutto agli inizi e tutto il resto comunque fare un video insieme a lei per me è un plus poi non è che sta sempre sul mio canale è un plus vabbè lei grazie anche è chiaro però non è che è nata cioè non è stato fatto ok ce l'ammetto perché poi dopo viene eseguito cioè lui era un un disegno un master plan no no anche perché neanche io ho mai diciamo deciso comunque pensato di farlo youtuber domani insomma tutte cose che nascono e crescono poi è chiaro che se nel caso di instagram suo cioè se tu vieni seguito e poi diventi grande è chiaro che ti possano venire fatte delle proposte o altro ma questo penso a tutti cioè anche tu poi ci sta nel senso che è chiaro state insieme ci sta anche un ritorno naturale ecco come diciamo prima nel senso la cosa che lo fai in maniera naturale genuina è una cosa che lo fai che poi è anche lì c'è da discutere perché anche personaggi nati a tavolino comunque possono avere un perché negli occhi di chi li gestisce negli occhi di chi li crea e tutto sì ma sai cose allora per esempio io ho avuto due momenti di vita privata molto grandi che ho condiviso uno è quello dell'operazione ma esatto guarda io sinceramente non volevo però era una cosa talmente tanto grande che mi è successa ma io penso di aver risposto in maniera sempre positiva e non è neanche oggi ci penso ci penso tanto però insomma poi ho pensato effettivamente al messaggio che avrei potuto dare e tu non sai quante persone comunque nella mia stessa situazione o con parenti o con amici o con altre persone conoscenti che stanno nella mia situazione ben peggiore perché poi ogni situazione è diversa è differente sì ma mi hanno aiutato li ho aiutati io col mio messaggio quindi insomma sai noi noi ci abbiamo spesso ci dicono ci abbiamo delle responsabilità che dobbiamo stati attenti a quello che diciamo e tutto però poi magari non sfruttiamo al 100% la visibilità che abbiamo io ho pensato che forse veicolare quel messaggio che poi non è finita a me piacerebbe fare delle raccolte fondi perché guarda ti dico io l'ho vissuto se non lo vivi non lo sai non tanto nella mia condizione ma con le persone che ho a fianco nel reparto vedi quando vedi i bambini che stanno male quindi insomma è una cosa molto grande guarda voi avete una responsabilità nel senso che responsabilità poi è una parolona come dire soppesata soppesata e tutto però comunque avendo questo seguito è chiaro che se tu fai una cosa influenzi molto più persone di chi lo fa in mezzo agli amici che si fa una roba e io sono d'accordissimo con te quello che hai fatto è chiaro che ti arriveranno sempre critiche da chi pensa che l'hai fatto per fare un numero enorme di views o per sembrare una persona ancora migliore però ci sta sono d'accordo con te io nel mio piccolo per farti un esempio ogni volta che vado a donare il sangue metto una foto che all'inizio anche all'ospedale sembravano che cazzo vuole questo si fa fare la foto a mettere il sangue io ho detto guarda se con la foto faccio convinco anche una persona in più a donare il sangue ho fatto di meglio e devo metterla perché se non l'avessi messa non avrei fatto niente quindi fine poi chiaro qualcuno dirà guarda che esibizionista guarda quell'altro di qua amen però alla fine vai a fare una cosa migliore cioè è meglio di zero è meglio di zero esatto anche se io vabbè ma cioè non si può piacere a tutti quindi chiunque cioè chi ti guarda ci sarà sempre qualcuno che guarda in malafede io stesso quando ho messo alcune foto dell'operazione e tutto il resto sono stato visto in malafede che volevo prendere i like ma che me frega ma scusa secondo te non era meglio che stavo bene piuttosto che prendere i mi piaci cioè capirà che me ne frega e vabbè quindi questo è un momento l'altro momento è stato ovviamente quello del matrimonio perché è una cosa secondo me talmente tanto grande che poi finisce lì perché io non ho assolutamente intenzione di fare video del mio matrimonio mostrare qualcosa probabilmente vedrete la foto di quando ci saremo sposati si condivide un momento sì perché comunque sì no ma non è mio interesse magari andate da Ambra e Ambra vi metterà 250.000 foto e poi anche lei sicuramente sì sì no però per farti capire nel senso almeno io non c'ho interesse in quello nel mostrarlo più del dovuto però è una cosa cioè chiedere a ma guarda l'importante che dici scusate è stata una cosa grande per me l'importante che dici quello che pensi e quello che fai ti ripeto se tu fossi stato una persona che diceva guarda no io ho tutto preparato a tavolino io condivido ste robe per fare like avrei comunque apprezzato l'importante è non dire A e fare B secondo me nella vita in tutto quello che facciamo anche perché così crei empatia con le persone quel rapporto genuino che la gente si fida poi è chiaro gli hater ci saranno sempre gente che ti critica ci sarà sempre ma soprattutto a maggior ragione quando hai numeri enormi è chiaro se no diventi diventi uno un democristico guarda io sì no guarda io penso penso questo per parafrasare Sarri che diceva le persone le persone cioè io in realtà non sto su internet per convincere le altre persone pure se in realtà l'influenza fa questo però vabbè e la conseguenza non è lo scopo esatto 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 cioè nel senso io comunque le persone che hanno un pregiudizio non le puoi convincere pure se è il classico caso dei 100 commenti tu c'hai 99 commenti positivi e uno negativo ti colpisce più il negativo però con l'esperienza capisci che tu non gli puoi stare poi dopo troppo dietro li devi da troppo peso perché queste persone non le non le non le insomma so così loro stanno là perché te le devono dire quelle cose perché magari va bene nulla o magari sono passato in quel momento se è costruttiva sì però d'altro canto io credo che quello che faccio c'è molta spontaneità vedi cioè c'è molta genuinità cioè io io così cioè le cose se tu me le chiedi io te le dico non c'ho segreti non c'ho cose è lo stesso motivo per cui penso che quando magari vai a fare un'anteprima di un videogioco la gente poi si fida di quello che tu dici perché tu gli hai sempre detto così cioè almeno io che te l'ho messo no ma devi perché altrimenti se cominci a sbarrellare poi dopo al prossimo video ti credono di meno poi torni se tu dici guarda questo gioco è più bello del mondo è poi una merda e ci sono stati casi di altri colleghi insomma che era sempre bellissimo era sempre bellissimo poi quando esce fa schifo a tutti allora dice ma scusa ma tu tutti gli anni mi dici che è bellissimo esatto perdi credibilità ma penso anche il giornalista per questo io non credo mai a quelli che dicono ah sì voi siete stati pagati per mettergli nove ma scusa non ci sono poi soldi tra le altre cose a parte quello nel senso magari uno può essere fan capito può essere portato a essere più generoso da una parte rispetto all'altra però non è che uno è venduto ah sono cazzate che uno fa complottisti esatto secondo me c'è una in questo caso c'è una grossa percentuale di entusiasmo almeno per me io dico per me io cioè io non c'ho nessun interesse anche perché a me non mi rientra niente quindi se c'è una cosa che mi colpisce e mi piace insomma io non c'ho ce lo dico tra l'altro la prima volta che ho fatto un lavoro per un lavoro insomma un'anteprima mi ricordo che era Ubisoft ma una cosa vecchissima non so forse Assassin's Creed The China una roba Chronicles l'episodio quello China e mi ricordo che era la prima volta che mi contattava una grande azienda insomma che fa un'anteprima e mi diceva io però gli ho detto cioè stupidamente gli ho detto però guarda se non mi piace dico che non mi piace cioè se mi fa schifo mi fa schifo e io ho detto sì sì ma cioè anche loro ti insomma invogliano a dire la tua perché se tu non dici la tua cioè non sei perdi la credibilità poi è la credibilità è tutto secondo me infatti Ricky Mozzi dice che bello sentire le cose che Mike diceva 3-4 anni fa non sono cambiate nel tempo anche vedi ci sono persone che apprezzano la coerenza e anche si ricordano 3-4 anni fa tu ti ricordi quello che uno dice no ma allora si cambia cioè se uno non cambia cioè l'evoluzione sta alla base del cambiamento o il cambiamento è alla base dell'evoluzione fai come vuoi però insomma è impossibile non cambiare su internet tu ti devi evolvere sì si spera sempre per il meglio esatto ovviamente tu fai sempre le cose per il meglio però non devi secondo me non devi cioè uno ha un'etica non devi passare sull'etica poi c'è chi non ce l'ha e vabbè però poi facciamo parte facciamo il momento d'esperienza fatto il vecchio ho stati cose da vecchio no 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 Mike se lavorassi nello staff di youtube cosa faresti per aiutare ad emergere youtubers più piccoli ma c'è Dastanna che ha fatto un sacco di domande inerenti a youtube guarda io non lo so io non lavoro su youtube so sicuramente più che altro facciamo sì allora oggi senza come dire sviare le persone oppure deprimerle cosa c'è ancora un po' di spazio per cosa per idee nuove sì io so della filosofia che qualsiasi cosa tu stai facendo fatta bene sicuramente dall'altra parte del mondo c'è un bambino cinese che la fa meglio di te no questa era una battita di Simpson non mi pare non mi ricordo insomma quindi tu per quanto puoi essere bravo sicuramente arriverà uno che è più bravo di te quindi questo non c'è non c'è dubbio su questo che puoi fare non lo so cioè io sinceramente non lo so io l'unica cosa che ho sempre detto è il lavoro paga prima o poi poi se tu cerchi poi la meritocrazia su youtube o su internet in generale nella vita probabilmente nella vita però sai in alcuni lati magari la trovi su internet non la troverai mai perché tu non sai cioè non puoi imporre alle persone che cosa gli piace che cosa no era il discorso del pallone tu fai un video bellissimo non se lo cagano tu fai tu buchi un pallone se lo vedono un milione di persone è una cosa certo cioè non lo so che farei io non faccio questo sicuramente comunicherei con chi con chi lavora su youtube in modo tale che cioè chi si esprime sulla piattaforma possa insomma sempre migliorare e migliorarla però dai strumenti migliori ringraziamo bico 1987 che si è abbonato al canale allora bravo bico adesso dai 5 euro così donazione dai dai senti allora e3 di los angeles ci vai non ci vai e non lo sai ancora si ancora non sono certo probabilmente si ancora discutendo degli ultimi dettagli e tutto cosa aspetti facciamo un paio di domande video ludiche dai poi andiamo alla domanda cosa vabbè God of War innanzitutto facciamo fai un po' il giornalista voto no non voto io guarda io a fine ogni fine serie no lo so che non voti lo so però dico però te lo chiedo io cioè un giudizio un voto numerico non so non so sapresti perché non c'hai no perché non ho una scala esatto allora buono ottimo eccezionale incredibile rivoluzione evoluzione non lo so guarda secondo me lo devi comprare cioè mi piace proprio il messaggio chiaro o devi comprare allora io sono amante delle belle storie sì ok quindi spesso e volentieri metto il gameplay in secondo piano se so una storia bella cioè tu c'hai il gameplay c'hai la storia c'è anche un comparto tecnico fatto bene artisticamente secondo me è una grande ambientazione c'hai possibilità infinite per seguire robe varie secondo me ci sarebbe un peccato poi inoltre non hai proprio bisogno di aver giocato gli altri gli altri certo certo che se non l'hai giocati pure qua ti perdi soprattutto a un certo punto ti cominci a perdere dei pezzi è un peccato no no non spoileriamo non spoileriamo e quindi comunque è da comprare e invece quello che aspetti più suppongo a questo punto avendoti sentito prima Red Dead Redemption 2 eh per i prossimi prossime serie o in generale no 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 dico in generale come videogioco proprio da giocatore beh allora guarda beh Red Dead Redemption sicuramente però però è il gioco su cui mi sto informando meno perché ogni volta che a parte che non ci sono tutte queste informazioni ma perché sennò poi ogni volta mi esce la scimmia clamorosa per esempio adesso c'ho una voglia matta di recuperare sì primo ok però no non posso cioè no no voglio però è un'idea che sto cercando di di rimuovere dalla testa di rimuovere su Xbox One con la retrocompatibilità veloce su Xbox One sì però vorrei prendere l'Xbox One X che non l'ho presa perché lì c'è la modalità quella ancora potenziata si è enhanced esatto esatto però sai lasciamo stare comunque quello sì aspetto pure se non uscirà nel 2018 notizie su beh The Last of Us eh beh certo parto due sono un grande purtroppo cioè purtroppo parca miseria è un titolo forse è il miglior titolo di Naughty Dog per tanti motivi sì sì Uncharted è una figata però The Last of Us è un pezzo avanti proprio di maturità secondo me sì poi vabbè Spider-Man lo aspetto cioè mi intriga molto vabbè però in realtà io ho un gioco aspetto da ormai dieci anni è Kingdom Hearts 3 infatti hanno scritto sì Sherlock 97 Kingdom Hearts dai che adesso ci sta ci sta un evento legato a Kingdom Hearts sì sì so l'embargo tra qualche giorno esatto il 18 se non sbaglio ma sai sì ma sai comunque finché non esce però guarda da fonti anche mie ho parlato con tutti i colleghi praticamente Square Enix ha detto esce entro l'anno cascasse una pannocchia su si so so che c'è su Nomura si sono rotti le palle di aspettare l'uscita esatto però il problema è che se esce come Final Fantasy vabbè poi non entriamo in queste cose però se esce come Final Fantasy XV sì certo poi c'è mille critiche però veramente effettivamente ha avuto tantissimo tempo a Nomura però ti posso ti posso aprire una finestra su sta cosa perché sai che a volte i videogiochi perché tu adesso stai parlando con me tu mi hai chiesto che aspetti però io diciamo ho una doppice visione della persona e poi lo youtuber no sì ma tu sai io come persona aspetto tantissimo Kingdom Hearts 3 come youtuber Kingdom Hearts 3 non è molto interessante tu dici che non sarà molto youtube friendly non è youtube friendly ti spiego perché perché esattamente come Metal Gear Solid The Phantom Pain o altri brand che purtroppo hanno una radice storica cioè nel senso quindi che nascono dieci anni fa come per esempio l'ultimo episodio di Kingdom Hearts serie della insomma della saga vabbè poi ci sta in mezzo duemila cose però vabbè diciamo che le persone con cui poi tu ti rapporti no facciamo finta che magari il mio pubblico può essere che vada dodici anni ai sedici vent'anni guarda che non so in quanti poi hanno giocato tutti Kingdom Hearts e soprattutto non so in quanti li hanno veramente giocati tutti visto che sono usciti tutti i vari 2.8 esatto io ho fatto un video riassuntivo di tutta la storia e anche io certe volte hai perso le pezze ma è uguale anche io quando ho scritto l'articolo c'è un casino enorme poi anche con la con la nomenclatura hanno fatto una roba fuori di testa c'è una timeline in realtà la timeline di Kingdom Hearts c'è quella crinologica quella è in ordine di uscita quindi è un po' un macello è un casino invece quindi il titolo youtube più atteso allora serie che io porterò sì serie che io porterò sicuramente adesso c'è Detroit poi aspetto ovviamente i vari Red Dead a settembre c'è c'è Spiderman c'è Tomb Raider Tom Raider Tomb Raider Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider insomma c'è c'è quello lì insomma paradossalmente ci sono momenti pieni di roba e momenti in cui non c'è niente quindi viene detto eh perché no perché non fai le serie ormai si è cambiato non fai più videogiochi ma raga quando si sanno no vabbè però comunque si è cambiato si è cambiato insomma io ripeto single player li gioco tutti perché è la cosa che farei indipendentemente poi sono quelli che toccano il cuore quanto giochi offline eh al di là del mio del lavoro sì sì che non ci toccano non gioco quasi più perché perché voglio allora post operatorio ho riniziato ho rigiocato tutto Dark Souls 3 sono pazzo proprio però stavo in semi regime di ripresa non è cioè non neanche parlavo quindi ho rigiocato è rarissimo io rigioco a giochi che ho già finito perché appunto è una questione di tempo per quello dico mi devo togliere dalla testa l'idea di giocare Red Dead Redemption certo perché però non perché non sì non c'è molto molto tempo tu però lo sai abbiamo detto che non sei influencer ma lo sei anche sì no io so di esserlo ma se tu mi dici chi sei non ti definisci influencer hai mai pensato di sfruttare questa tua capacità anche per tra le due per il bene io immagino il bene non stiamo parlando di salvare il mondo è chiaro sempre bello di videogiochi tipo magari una volta ogni tanto parlare di un titolo che ha bisogno di visibilità parlo chiaramente soprattutto di indie ti parlo chiaramente è una questione sempre di tempo immagino già sei pieno fino al collo di tutto quello che devi fare giornalmente però dico ecco tu sai che definisci certi canoni riesci veramente a muovere soprattutto certe tipologie mi hai pensato di farlo allora guarda io ti dico a verità ritorno a quello che ho detto all'inizio cioè io faccio tutto quello che farei indipendentemente da tutto purtroppo ultimamente è chiaro che fare un video così completamente sconosciuto mi porta sicuramente meno c'è un video che avrebbe una visibilità minore rispetto a qualcos'altro quindi è chiaro che il tempo uno lo massimizza però in passato io ho portato delle serie su videogiochi to the moon o abzu che insomma titoli più di nicchia per quanto belli però più di nicchia certo esatto to the moon insomma ero più piccolino abzu se tu adesso vedi abzu c'ha dei visualizzazioni che io dico ma com'è possibile c'è per il gioco che è però insomma mi piace ogni tanto tipo la perla del mese io la butto lì c'è solo per dirti perché appunto c'è questa capacità che hanno pochi magari anche di dare una sterzata a certe cose del mondo dei videogiochi e far conoscere alcune perle meno rare eh ma sai sì sì questo si può fare una volta ogni tanto però sai se è una cosa un progetto ma sai guarda attualmente la vedo un po' difficile perché anch'io non cioè mi ci dovrei proprio mettere lì e trovare qualcosa che effettivamente mi appassiona e non è mainstream è molto difficile per il momento però cioè era difficile dai mettiamola così no vabbè ma era per capire tanti motivi sì 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 ma chiaro chiaro domanda legittimissima che in passato era più facile per me vabbè certo adesso hai comunque dei ritmi molto complessi quanto ci metti a fare una serie ad esempio ci hai legato ora alla fine poi quanto ci hai messo a fare ma forse guarda ce l'ho davanti ti dico l'ho iniziata il primo l'ho messo il 19 aprile ok a scadenza considera però comunque sono due video al giorno perché quando faccio la serie faccio sempre due vita al giorno il finale l'ho messo il 29 quindi dieci giorni quei dieci giorni li hai dedicati unicamente a God of War o si purtroppo no purtroppo li ho li ho fatti solo completamente concentrato su questo perché è un gioco che richiedeva questo certo attenzione a tutto no perché ti ripeto c'è anche chi si mette là regista cinque episodi li divide papam cinque episodi in due ore si fa cinque episodi per me c'è approfondimento intrattenimento non lo dico Boria come lo fai te io faccio così devo leggere tutti i commenti Patrick dice che sei il miglior youtuber al mondo e quando esce un gioco guarda sempre i primi episodi per decidere se prenderlo o no quindi sei la sua fonte di informazione per poi quello che dicevo prima se tu guardi l'evoluzione di una serie inizia col botto mi fa finta i primi tre quattro episodi hanno delle visualizzazioni molto altre poi si stabilizza e fino al finale che sale la stabilizzazione no come lo vuoi lo stabilimento del mare insomma la stasi diciamo nasce da tanti fattori da persone che poi se lo comprano principalmente quello che le persone poi se lo comprano ci giovano per conto loro oppure magari poi se lo recupera insomma cioè sono contento se riesco cioè io non devo influenzare perché in realtà poi se uno se lo compra o non se lo compra non mi cambia assolutamente niente però però sono contento se uno mi dice guarda Mike grazie a te ho scoperto questa serie grazie a te ho fatto questo perché comunque per me youtube nasce come una condivisione cioè io ho bisogno di un posto dove condividere delle mie passioni che magari non riuscivo a condividere con i miei amici quelli a cui esco faccio magari non tutti hanno le stesse passioni no? cioè magari c'è il calcio quello e quell'altro però i videogiochi non che poi i videogiochi quando io andavo a scuola poi non so a te ma era da sfigato per me era ancora di più sfigato capito hai proprio un chietto vai nel lanzaretto a morire esatto io una volta che ho saltato scuola perché mi ero comprato un gioco per megadrive penso un po' l'hanno scoperto in classe mi hanno preso in giro proprio all'infinito l'ha sfigato invece adesso naturalmente dopo che squadra che squadra difi giochi a fortnite sì esatto che squadra difi la Lazio giusto la Lazio quindi c'è ancora sei l'unico che ancora insieme alla lotta della processione che lotta per qualcosa purtroppo ci sto un po' male vorrei evitare insomma Lazio e Inter però ogni tanto li fai video calcistici ti piace perché è la tua passione sì sì no il calcio mi piace insomma poi vabbè purtroppo vabbè le condizioni sono quelle che sono quindi non pratico da un bel po' però sì no sì vabbè il calcio è una passione ma in Italia il calcio è cioè la cosa più insomma il calcio il calcio l'italiano medio no vabbè ma è chiaro è normale ho visto ci sono qualche youtuber che parlano di calcio proprio che fanno opinione al di là di quelli al di là di quelli che rubano i video li rimettono e fanno un sacco di roba non quelli sono inutili infatti ecco vi voglio un consiglio ripate i video ricaricateli fate un sacco di soldi come infinito fate come infinito potrei fare Mike Chusha copio no 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 quelli lì non sono abbastanza tu devi andare sui siti inglesi sui canali questi americani spagnoli che si fa con le top le scariche ci parli sopra poi potrei fare tutti i commenti a Mike Chusha visto che ogni tanto li fanno giusto le reazioni ci stanno però paradossalmente piccola chicca io ho iniziato il mio primo canale prima di iniziare a fare i videogiochi avevo un canale ho aperto un canale in cui parlavo in realtà facevo ironia sulla Lazio però ho scoperto ben presto che in Italia non puoi fare ironia sul calcio tu non puoi scherzare nonostante tu sei tifoso con la squadra si scopriamo con le mazze sotto casa si si quindi ho detto vabbè senti ciao il calcio è veramente penso che genera un odio online anche offline anzi oltre offline che mai visto in altri sport tu sei del Napoli quindi saprai ho fatto una battuta su quando la Juve ha perso dal Madrid ho perso tipo 40 amici su Facebook no no so tu sei pure un attento segui bravo esatto io sono un ninja cioè io seguo tutti ma spesso in maniera silenziosa vabbè poi vabbè noi siamo amici su Facebook quindi vedo quando segna Cristiano Ronaldo la famosa foto il mio meme è storico esatto 60 e passavolta quindi insomma e poi pizza pizza pure pizza pure lì tu sei stato una volta a Napoli eri con i ragazzi no allora sì una volta Illuminati Crew quindi che cos'è cioè come nasce molto velocemente chiaramente molto velocemente guarda noi siamo ci siamo ritrovati in un momento storico che non insomma c'era non c'erano veri e propri gruppi nell'ambito gaming e intrattenimento facciamo finta erano poco Nadi Mates c'era vabbè Melagodo antica diciamo il gruppo più vecchio e diciamo che c'eravamo noi avevamo su gruppo Whatsapp tutti quelli che conosci insomma e conoscete abbiamo detto senti ma noi già facciamo i video insieme siamo qui ma perché non lo rendiamo pubblico però diciamo che è un po' diverso rispetto ai gruppi che ci sono su youtube cioè noi siamo tanti siamo sette canali otto persone è un po' come però siamo tutti individuali cioè ognuno ha il suo canale la sua stile diciamo diciamo che è un come posso dire è una selezione non lo star fai pinta che quando si riunisce quando si riunisce si riunisce una volta ogni cent'anni purtroppo perché noi siamo così comunque ripeto l'individualità è forte nella squadra non è nel gruppo è nella squadra secondo me e quindi sappiamo quello che possiamo fare però sai è anche un discorso d'opportunità di situazioni però è una cosa che oggi a due anni dalla nascita non è ancora stata replicata insomma ha avuto un successo repentino perché abbiamo fatto a parte il libro quello ormai lo fanno tutti però insomma siamo riusciti a fare tante cose cose che nessuno ha mai fatto per esempio una crossbar challenge a fine primo tempo nella partita della serie A abbiamo fatto un sacco di cose fighissime tour robe quindi insomma è una cosa grande insomma è un progetto che mi piace poi siamo amici quello è l'importante invece i rapporti con altri youtuber variegati cioè rispetto ignorarsi no no guarda io mi ritengo amico di tutti nel senso poi è chiaro che ho capito nel tempo allora io in realtà ho iniziato con l'idea che siamo tutti amici no e che quindi ingenualmente pensavo che ma anche forse pure una questione culturale io tengo no culturale forse personale cioè io ho sempre sono sempre stato propenso a cercare di aiutare le persone la fiducia alle persone parti sempre positivo fino a che poi non mi hai smentito chiaramente e purtroppo poi ho capito che in realtà l'ambiente è un ambiente un po' un po' maricuolo un po' marioli e quindi sì esatto in realtà c'è molta gente furba che tende a sfruttarti oppure cioè se ti può frega ti frega e comunque ho capito solo adesso in realtà da qualche mese che in realtà se tu sei in una posizione valuti le cose dalla posizione che hai però magari c'è il numero 2 non dico io sul numero 1 sto a fare un esempio però il numero 2 ti guarda in un'altra maniera certo esatto punta a diventare alla tua posizione il numero 3 vuole diventare il numero 2 il numero 4 il numero 3 quindi insomma è chiaro che non ci potete avere la stessa spesso non si fa in maniera genuina questa cosa è anche il rapporto io adesso non so tu hai visto crescere tanti youtuber anche no hai notato suppongo qualcuno un cambiamento atteggiamento completo qualcuno che è rimasto uguale a prima qualcuno che se la tira tantissimo immagino come in tutte le cose guarda tra noi tra noi almeno io con quelli con cui ho rapporti cioè io so distinguere chi è mio amico e chi è mio collega tra virgolette però sinceramente io appunto cioè io non ho mai voluto fare video con delle persone perché mi poteva portare interesse cioè io se qualcuno mi chiede vuoi fare un video io gli dico ok c'hai un'idea se troviamo l'idea figa facciamo il video non è una questione di dire oh così mettiamo insieme facciamo più accessi esatto se viene una persona con cui io penso che possa venire un video fatto bene cioè non è importante per me l'ho iscritto paradossalmente io la maggior parte delle mie collaborazioni l'ho fatta con canali con meno iscritti di me quello perché mi sento poi dopo una sorta di padre sì sì mi sento un po' capito che a me è capitato di sentire veramente chiacchiere inquietanti di gente che non parla più di cose da fare insieme ma di numeri ma quello quanto c'ha quell'altro quanto c'ha veramente è una roba che mi fa un po' intristire poi ognuno può fare quello che vuole sia chiaro no 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 ma allora guarda io c'è gente non faccio nome perché non è giusto non è anche non mi frega però oh c'è Vito Yuvani ciao Vito esatto sai che lui è insomma mio mentore sì 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 me l'ha detto perché ho fatto una cosetta con lui sono andato probabilmente se io sto qui è principalmente grazie a lui assolutamente perché il corso per videogiochi per videogiochi professionisti insomma è tanta roba la cosa più bella del mondo che lui ha cancellato poi da youtube poi adesso adesso lo trovate però insomma per anni non c'è stata la fancina quindi probabilmente guarda secondo me dico una cosa che per chi sta qua magari è una bestemmia però io fermamente convinto e oggi lo dico e faccio outing secondo me se lui non avesse cancellato quel corso e comunque avesse continuato parallelamente al podcast e tutto il resto quello che oggi è Farenz per i vecchi fan insomma sarebbe lui anzi quello di lunga data esattamente anche di più quello che oggi è Farenz che poi vabbè purtroppo pure Farenz ha quittato diciamo però insomma secondo me sì sì grande vabbè comunque dicevo prima gente che se la tira sì gente che non si fa la foto che ti cambia atteggiamento che adesso si che fa la foto con te perché sennò ti dà la visibilità però vabbè come in tutte le cose come si dice a Napoli no? ma a me che me ne fotte che me ne fotte esatto esatto e quindi perché non ce ne fotte nulla facciamo una tornata di domande allora in chat ragazzi fate le vostre domande per favore non domande non stupide però domande un po' sensate sia di videogiochi perché stiamo parlando anche di videogiochi quindi se volete sapere qualcosa da Mike da Fede anzi sì no ma da tutti tanto rispondo sempre io quindi oppure qualche domanda però non fate domande che non sia muri esatto basta muri lo bagniamo e non è interessante fate domande quello che volete soprattutto videogiochi o qualche curiosità ecco noi rispondiamo io magari leggo e Federico risponde e così via prossimi Assassin's Creed Dead Dead Hitshole02 tu ti piace come serie? sì mi piace soprattutto perché è uno di quei brand che piace a tutti cioè nel senso il ragazzo oggi ci gioca il ragazzino ci gioca lo conosce e magari quello più grande lo conosce lo conoscono tutti quindi è youtube friendly poi vabbè a me piace vediamo il prossimo quando ci sarà e soprattutto secondo me con Origins hanno messo delle basi anche se c'è tanto déjà vu ancora secondo me però chiaro cambi il magico cambi ce l'hanno in più però però sì assolutamente hanno messo le basi anche a livello narrativo hanno fatto un bel lavoro a livello di ricerca storica e tutto The Doctor V abbiamo detto che assolutamente Federico dovrebbe andare alle E3 di Los Angeles ancora dettagli seguiranno prossimamente non so sì esatto Ludvigo88 Switch ci giochi ti piace allora io vorrei che tutti i giochi uscissero per Switch in realtà che è molto più comodo anche a volte sì che non so magari perché spesso e volentieri io la notte ho tempo per giocare magari mi vorrei mettere a letto con la Switch posso e con la Play no però è chiaro che i giochi che stanno sulla Switch i migliori li ho presi li ho giocati tutti e soprattutto sul treno in aereo e l'ho sempre utilizzato da portatile non l'ho quasi mai attaccata alla TV certo pure se per esempio Zelda va giocato secondo me attaccata alla TV però però sì insomma quella è dovete comprare una gran console veramente nonostante a livello software abbia tante lacune è una gran console sì to' penso quando sei diventato questo mi piace è una delle poche persone che leggerò come ha regito la tua famiglia questa tua crescita di notorietà cioè all'inizio ti prendevano anche loro in giro tipo i compagni di classe ma che fai sicuramente non mi hanno appoggiato nel senso non è stata una cosa capita non voglio entrare no 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 non giusto un'infarinatura no vabbè sai no perché comunque la questione familiare è importante soprattutto per i ragazzi giovani no perché chiaro che a nonna gli devo dire che lavoro faccio all'inizio è stato un po' difficile e soprattutto perché magari la nonna tu stai dentro casa in realtà nonna non tanto però magari per i genitori tu stai dentro casa non fa niente se sempre avanti al computer no ma in realtà tu stai portando avanti un'impresa perché poi è un'impresa proprio nel vero senso della parola riuscirci no non posso dire che mi hanno appoggiato poi è chiaro che adesso è facile si sono resi conto dell'importanza sì però non è che non ho mai condiviso molto quella cosa però sì a un certo punto beh in realtà quando vedevano che la gente veniva a casa e ci dofonava che tra l'altro è uno dei motivi per cui mi sono anche trasferito uno dei motivi secondari però poi sono fatte due domande insomma fantastico è il gato o avermedia è il gato è il gato io uso avermedia però è il gato sì vedete ragazzi differenza on the go però aspetta non so a chi credete è quello con la webcam brutta o quello con la webcam fatta bene non lo so decidete voi alla fine insomma molto simile entrambe in realtà anche fasce di prezzo molto molto simili DJM25 cosa ti aspetti dal prossimo god of war è appena uscito questo immagino non posso non si può parlare cioè non si può parlare senza spoilerare secondo me magari più spettacolarità forse più boss sai più roba ciccia la god of war anche precedenti forse allora io non ne ho sentito la mancanza da sincero cioè nel senso chiaro che perché non era lo stesso gioco certo sì sì un'altra roba proprio un'altra cosa quindi ho detto vabbè però cioè va bene così va bene così no no figo è un gran gioco qualche boss come il primo e come altri due sarebbe ancora più figo ecco in quel senso Mirror Fate il tuo Metal Gear Solid preferito o Metal Gear eh allora questa è una bellissima domanda allora io Metal Gear è un'unica serie che ho rigiocato più volte tutti a parte perché vedo un po' mi scordavo le cose e quindi dovevo rigiocarla eh beh Snake Eater Snake Eater è tanta roba però vabbè diciamo sono legato a tanti eh in maniera particolare perché ognuno l'ho giocato in delle fasi della vita diverse e quindi mi ricordano tante cose però forse Snake Eater Snake Eater è un gran titolo sì boh Snake Eater è tanta roba concordo con te assolutamente in tanti ti chiedono se porti Detroit in live Splatoon 2 no no in live no ragazzi in Detroit ci sarà la serie ci sarà la serie che la comincerai tra breve tra altre cose ormai ci siamo il gioco esce il 25 maggio esatto c'è l'embargo che non posso non si può dire non si può dire ancora nulla qualcuno ti chiede di essere in Ostradamus a parte addirittura The King of Rainbow Six tra 20-30 anni come sarà YouTube mamma mia no io non so neanche domani come esatto no però questa cosa la posso dire secondo me gli youtuber più grandi almeno in Italia gli youtuber più grandi adesso io gli dico sempre ci scherzo con altri youtuber senza dico sempre che noi siamo tipo i calciatori degli anni 70-80 magari fortissimi tipo Falcao no un giocatore fortissimo che però rispetto a oggi un panchinaro del Benevento guadagna di più di Falcao però tu adesso stai già anche in una fase di crescita io penso più forse no no parlo della piattaforma stessa esatto oggi l'Italia non è pronta all'investimento duro delle pubblicità su internet o almeno YouTube non è cioè cioè si sta evolvendo però sicuramente tra 5 anni 10 anni ci sarà un tipo di advertising diverso che poi noi guadagniamo sulle pubblicità quindi sarà sicuramente diverso rispetto adesso vediamo se la piattaforma rimarrà sempre quella veramente se uno guarda indietro quanti cambiamenti ci sono stati nell'arco di 10 anni chissà cosa succede nei prossimi 10 ma saremo pronti e sarete pronti ma soprattutto se lo ucciseremo questa è la domanda che vi dovete fare un meteorite gigante ci ammazza posso un meteorite colpirmi com'era la pubblicità della moglie se non ci saremo ragazzi posso un meteorite colpirmi adesso bam Alessandro Oro che prova a come dire a dolcirmi Death Stranding però è un titolo interessante è pazzo Kojima ma non è guarda io ho paura cioè nel senso io lo giocherò sicuramente ma sarà uno di quelli che non porterò sul canale quasi sicuro che di non portarlo a meno che non ti fai le pippe mentali clamorose e tutti ti seguono no no ma va bene però io immagino che per la maggior parte della mia fanbase magari potrebbe non essere tu dici però io vedo ancora io pensavo Horizon sarebbe andato malissimo invece è andato una bomba comunque Kojima è veramente proprio la la star indiscussa per tutti io veramente ho visto parlare anche i ragazzini piccolissimi di Kojima perché come riesce a veicolare lui messaggi nei videogiochi no lo so però ti spiego io non so che gioco sarà e non lo sa nessuno però Metal Gear Solid no? Metal Gear Solid quindi no The Phantom Pain quindi The Phantom Pain non esiste cioè non c'è molte cose sono spiegate lì stai lì nella radio che parlano 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 è un tipo di contenuto che secondo me su youtube così col video one shot non va bene magari il live va bene però così secondo me è una questione di tipologia ok sì secondo me sì è come i film porno c'era David Cage non so come lo vuoi pronunciare no? insomma lo stesso autore di Detroit sì 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 domani arriverà un'intervista l'ho intervistato ah ok perfetto quindi insomma lui mi ricordo in un'intervista vecchia disse che i giochi d'azione sono come i film porno no? che tu cioè il dialogo non che te frega lo salti il fatto è finito vai al dunque certo esatto e quindi a parte per me è una cosa che è abberrante che tu giochi i videogiochi saltando le cazzine cioè che cacchio stai a giocare però insomma purtroppo tanta gente è così la pappa pronta è anche facilmente veicolata quindi ho paura che visto che comunque su youtube poi tu non sai effettivamente a chi ti rivolgi lo vedi solo con i numeri ho paura che appunto la maggior parte delle nuove generazioni siano così molto vabbè dammelo su sbrigati sbrigati lo voglio subito andiamo subito al dunque esatto shadow of the tomb raider come ti è sembrato in tre parole sole cuore più grande più grosso per riallacciarsi al porno quindi sì esatto no guarda bigger and better sì non ho fatto un video ma non può perché non mi hanno dato il gameplay quindi no però posso dire la mia è tutto quello che hai già visto migliorato dal punto di vista del grafico ovviamente abbiamo quello è il limite ambientazione diversa Lara è diversa più consapevole è tutto vediamo un attimo perché comunque c'ha i suoi divettini però la dipende dalla storia no? perché a livello del gameplay non è che sono grandi novità no però c'è quello nel senso è quello c'ha delle caratteristiche molto simili a Uncharted come il gameplay no? c'è salti, scali, spari no? però la differenza poi la fa la scrittura della della sceneggiatura se questa io ho giocato l'inizio l'inizio c'ha sembra un vediamo insomma vediamo staremo a vedere comunque dai fiduciosi dai sempre fiduciosi bisogna essere nella vita certo fino a che non esce il gioco Ice Cream che tipo di webcam usate? io la Logitech C922 tu? e io la 920 quindi vedi che sei più ricco no no guarda non è identica è semplicemente il come dire il il colore sì esatto guarda io ho i colori sparati male perché con le luci non sono settati vabbè a parte poi c'è Dragon e dice seguite Polpetta 04 seguite tutti quanti Polpetta 04 non so chi sia vediamo visibilità però dal nome sembra promettente esatto esatto quindi seguiamo tutti Polpetta non si sa dove perché a casa sua forse collaborazioni già abbiamo parlato Elgast06 se hai mai pensato di fare una collaborazione su YouTube o altre persone potrà capitare magari però dipende molto la tua è effettivamente un'impresa dove ci dedichi il 100% del tempo che hai a disposizione quindi non è nemmeno semplice già suppongo che stasera stare qui comunque è sottratto e ti ringrazio due ore magari alla creazione di contenuti o comunque tecnicamente le ho sottratte ad Ambra ciao Ambra grazie Ambra quindi dopo te la farà scontare non scherzo tanto ormai la promessa te l'ha fatta quindi stiamo a posto cioè a Dottor Miyazaki quanto è importante mettere la faccia su YouTube cioè è possibile avere successo praticamente soltanto con la voce facendo vedere roba o è molto difficile su YouTube ma guarda io faccio le serie senza webcam però adesso però tu sei conosciuto sì però insomma ci sono arrivati io ho mostrato la faccia mi sa 3000 iscritti vabbè che comunque il tempo erano 3000 iscritti beh guarda se pensi che per esempio uno YouTube fa a cagare se non avesse mostrato la faccia sicuramente ci avrebbe avuto molto più successo e più seguito in realtà sì puoi però dipende che fai certo vabbè questa è un'idea mia sì sì certo ma dipende guarda dipende non c'è una via purtroppo io se se ci fosse una via io l'avrei già percorsa ma purtroppo non non c'è tutta sperimentazione contro studio esatto provi sbagli provi sbagli provi sbagli provi sbagli a un certo punto capisci che sbagliando cioè non fai più gli errori o comunque li limiti ecco vale 931 rivedi mai i tuoi vecchi video? difficilmente poi ci sono dei video cui tengo maggiormente so che erano belli insomma però sai che c'è che i video vecchi se tu vedi già un video dell'anno scorso oppure paradossalmente due anni fa si montava molto di più cioè c'era un editing molto più pesante rispetto ad adesso infatti mi sono rivisto un video e ho detto ammazza quanto montavo cioè ma adesso pare che meno male perché è un po' più easy black ops 4 è un video dal tuo canale? cioè è un gioco dal tuo canale? guarda io guarda io forse ho fatto due video su cod non so anzi io cod finché non ho iniziato youtube neanche lo conoscevo considera non era nelle tue corde diciamo no non è nelle mie corde non è nelle mie corde corde mamma mia dove ci sta? poi vabbè spiro spyro come si dice chiedono sì ma sono tutte eporezioni nostalgia tutte cose fighe però non è crash insomma crash mi stampa i capelli spiro o no o spyro ringrazio a mike che mi ha fatto scoprire Tazen però io mi chiamo Tanzel quindi Tazen non so chi sia forse sì esatto è la versione low budget esatto la n costava troppo però chiede anche lui god of war 2 come sarà è troppo presto anche tra le altre cose può uscire tra un paio d'anni almeno ma pure 3 quindi figurati nel frattempo Detroit me lo consigliate aspettano qualche giorno che è ancora presto è ancora presto non so perché a Valero interessa sapere se giochi di più visto che l'ha scritto 100 volte su Xbox o Playstation puoi anche non rispondere no vabbè ma io rispondo tranquillamente no gioco più sulla Play un po' tutti gli italiani ma no ma io vorrei anche giocare su Xbox se ci fosse un motivo ma nel motivo per il momento non c'è quindi Zelda Fix spara una console a cui sei più affezionato di sempre proprio se tu dici la console che amo anche a livello nostalgico o tra le recenti no vabbè guarda cioè io sono legato alla Playstation la prima perché? beh la prima chiaro io ho iniziato con quella come casalinga mia poi in realtà le prime esperienze sul NES del mio cugino vecchissimo però boh c'è la Play ma in realtà non faccio caso tanto alla console quanto più al gioco poi il gioco vedi esce rimasterizzato e fai quindi si dice che è poco legarsi io invece sono innamorato del compianto Dreamcast che ha fatto una brutta fine però non so perché è stato un periodo storico infatti adesso la buttano sulla Mike cosa pensi di Orsato devo dire anch'io cosa ne penso di Orsato Orsato che vabbè ma guarda la Lazio quest'anno col VAR è un macello cioè già muoio domenica devo soffrire con il rischio che non va in Champions League quando ormai c'era Champions League da tre giornate probabilmente esatto vabbè lasciamo perdere che quest'anno si doveva far vincere sempre i soliti per giustificare il VAR speriamo che venga applicato meglio più che altro vabbè sì sì ma il calcio lasciamolo fuori sennò poi qua ci comincerò a infamare in tutte le maniere Gonzalo Pippa però Gonzalo Pippa Guain mi piace come nickname vabbè dice chiaramente abbiamo già parlato del fatto che tutto quello che succede anche a livello di salute va a influenzare no? quello che succede dopo come ti approccia alla vita è normale chiaro chiaro vabbè il momento in clinica in realtà è stato cioè per me è come di essere stato in carcere infatti ho pensato con l'esperienza dei tre giorni in carcere ai ragazzi li devi buttare no 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 era così cioè io c'avevo siamo in un quadrato guarda vabbè è una cosa non è il momento che ti segna diciamo che ti segna e ti dà anche esperienza per affrontare in maniera differente le cose con tutto quello che ci succede a livello personale a diverso titolo sì sì ho capito che non voglio andare in prigione quindi non farò niente per andare in prigione assolutamente Gamescom ci andrai Electro Boy 84 guarda se vado all'E3 non andrò alla Gamescom però ti posso dire che come fiera secondo me come fiera per l'utente per l'utente è fantastica è più bella la Gamescom è mille volte meglio però per gli addetti a lavori è low budget ma tu facevi sia io tutte facevo anche San Francisco GDC San Francisco E3 Gamescom e Tokyo Game Show per 16 anni l'ho fatta però effettivamente Gamescom è un riempitivo sono così vecchio che facevo le CTS di Londra e facevo Lipsia che erano tutte quelle prime di Colonia Lipsia l'hanno tolta però non no Lipsia è stata è stata cambiata in Colonia prima si chiamava la Games Convention di Lipsia che era figa mi ricordo mi ricordo perché non era però spieghiamo una cosa che magari non tutti sanno che in realtà l'E3 non è solamente cioè c'è la conferenza quella lo vedono tutti poi però ci sanno tutti i momenti dopo che tu vai nei bootcamp dei varie aziende che ti mostrano qualcosa che magari non hanno mostrato per forza quindi insomma voi vedete diciamo solamente una percentuale posso e neanche io lo vedo perché io poi vado e faccio il mio però è come un'ammazzata clamorosa l'E3 di Los Angeles è un'ammazzata infinita proprio lavoro puro dalla mattina alla sera poi chi deve montare chi deve scrivere la notte cioè diventa un casino mi stanno riesumando certe robe il top 3 che era lo speciale facciamo sulle standiste si per i tempi poi lì pure lì hanno tolto la mezzo per un periodo tutte varie cose che sono successe e così via tra un mese vedremo uno dei tre migliori di sempre ma secondo me no l'anno prossimo con le console nuove quest'anno non credo proprio che vengano nemmeno accennate sarebbe quasi controproducente producente washdog 3 vabbè il top 3 cosa ti aspetti visto che tu hai detto che per te dell'astovase è incredibile dalla parte 2 cosa è paura facciamo questa come ultima domanda e cosa invece ti aspetti di figo allora guarda io ho piena fiducia in Audi dog quindi non non penso che cioè guarda mi hai fatto la domanda che finisce a mezzanotte questa live quindi insomma sarò breve guarda qualsiasi cosa vi sta bene anche se per me per me dell'astovase è finito cioè nel senso se finiva col primo perfetto cioè secondo me non ce n'era bisogno non ce n'era bisogno di un seguito però se me ne danno un altro eh sì però ho visto ho visto quello che hanno fatto cioè almeno i trailer non abbiamo visto il gameplay probabilmente non so se pensi anche te mostreranno qualcosa qualcosina sì sì per forza per forza devono per forza farlo e poi il fatto che sono passati o passeranno da due personaggi a espandere quello che è successo nel mondo è furba come cosa perché magari di loro due hanno detto tanto e c'è ancora da dire però se a quel punto dici sì ok ma l'epidemia mica era soltanto di loro due è tutto il mondo o comunque parte del mondo che l'ha vissuta e quindi voglia parlare raccontare poi chiaro trovare altri personaggi empatici come elio non è semplice infatti il bello è stato quello che comunque tu dici beh raccontaci pure del resto ma il bello era che la storia era la loro però insomma no no Joel secondo me non è rip non lo so buon tra l'altro io ho fatto ragazzi ho fatto un video ma posso spammarmi un attimo ho fatto un video sui segreti e sulle teorie di The Last of Us parte 2 quando uscì insomma tutte le cose che erano state analizzate e lì ho detto la mia quindi insomma se vi andate a cercare quel video insomma è stato approfondito poi chiaro era prima dell'ultimo trailer quello lì che abbiamo visto però però ragazzi tranquilli cioè io se non ho dubbi su un gioco è su quello esatto un po' chiaro che Puff Steps non ti preoccupare che si scusa perché mi hai chiamato Tazen ed è semplicemente una canzone di Gigi Diacostino del 1998 con questa tristezza di tanti anni ti ringrazio Fede sei stato gentilissimo siamo stati due ore insieme poi metteremo assolutamente la replica su YouTube già domani in barba agli agreement di Twitch che vuole 24 ore ma la mettiamo dopo 12-16 ma sì ma tanto nessuno segnalerà no ma io vedo tanti che fanno addirittura dirette in contemporanea quindi figurati sì vabbè ma non chi se ne frega allora niente quindi ti rivediamo come serie nuova quindi su Detroit ci siamo in uscita non vi invito a seguirti perché tanto tutti già sanno chi sei cosa fai e ti seguo ti ringrazio ancora e niente grazie a voi grazie a voi ci vediamo molto presto grazie a tutti voi che sono stati in chat tantissimi per le domande vecchi e nuovi un abbraccione una capata in bocca che do sempre io a tutti quanti e a presto ciao ragazzi ciao